ben ritrovati a questo nuovo episodio di the long run io sono alessandro come online marcello dall'altra parte d'italia siamo pronti a parlarvi di quello che è successo in questo mese di giugno in questo mese di gare ovviamente non vi parleremo di politica o di cosa è successo nel mondo quello ci interessa fin lì e abbiamo già fatto e spero abbiate seguito delle dirette relativa a un paio di gare di questo mese un paio di gare importanti sono state western states e loot forse chiamarle dirette è sbagliato visto che avremmo dovuto fare tre dirette ma abbiamo poi redirezionato su due puntate registrate esatto abbiamo appunto parlato di western states e di loot ovviamente riparleremo di western states e più avanti di loot però per quanto ci riguarda l'argomento principale e resterà per sempre così specialmente oggi 4 di luglio è quello di western states direi di sì il mondo dell'ultrarunning è focalizzato su no su è focalizzato a palisade stau per per quel weekend specifico anche se devo dire la verità penso che siamo gli unici che lo chiamiamo palisade stau perché vedo tanta confusione ancora olympic valley squo valley s x x x x w valley per cui noi continuiamo a dare la giusta il suo giusto nome e l'utilizzo corretto abbiamo avuto qualche gola profonda diversa dal solito che ci ha rivelato come il l'intento di dello sponsor globale di dell'utmb world series sia quello di cercare di spostare qualcosina qualcosina ma qualcosa rimarrà ferma beh vabbè diamo qualche indizio la gara che non si sposterà non è by ut non si chiama by utmb e almeno quella è l'intenzione che c'è a livello generale poi vedremo se 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 cambierà qualcosa o meno nel recap che faremo poi delle gare del mese si si noterà una concentrazione abbastanza imbarazzante di gare non solo dell'utmb series ma in generale di gare comunque di un certo rilievo la gara western state western state 100 ne abbiamo già parlato abbiamo fatto già una delle nostre considerazioni sia pre che post che post corsa vorremmo un po approfondire fare una chiacchierata generale su su come è andata e su quale sono state le curiosità che sono vinte fuori nel weekend sicuramente quello che balza agli occhi come come prima cosa è la prestazione monster senza senza sbavature anche se qualche sbavatura a detta del protagonista c'è stata e parliamo della vittoria di adam peterman al debutto sulla distanza ma diciamo che i suoi debutti sono sempre stati costellati da vittorie vittorie record in qualche caso ho apprezzato molto la sua umiltà a differenza di qualcun altro cinque anni prima partire e mi interessa solo finirla finirla bene possibilmente la vittoria e non punto non punto al record da cortina quindi un po da distante abbiamo cercato di seguire il live tracking qualcuno fino a una certa ora ale per tutta la notte facendo scroll da sotto le coperte per evitare di svegliare le altre persone cioè il sottoscritto che è andato a letto abbastanza deluso quando ha notato che tolepson era saltato per aria ti ha incuriosito cioè ti ha come si dice ti ha preso alla sprovvista questa vittoria te l'aspettavi non te l'aspettavi io ma ad essere sincero un po la temevo per cui sotto sotto un po ci guffavo anche tolepson anche tolepson penso che la temesse e l'abbia presa relativamente male non mi stupisce vista la visto il personaggio che è però è pazzesco pensare che alla prima apparizione non sono andato a guardarmi tu sicuramente sei più storico di me non so se sia il primo debuttante che vince western state non ho idea non ho idea allora mettiamolo così sicuramente antreison dato che ha vinto tutte le volte che ha partecipato ha vinto anche il debutto mi pare scott giure che abbia vinto la prima partecipazione solo per nominarne un paio forse team tweet mayer ha anche prima partecipazione però tu intendi debutto sulla distanza o sulla gara no no io intendevo proprio debutto sulla gara sicuramente gordi nel 74 anche lui anche lui sì visto che era la prima western state ma quello che lo rende comunque particolare è senza voler entrare in un discorso troppo grande rispetto a me rispetto a noi e tutto per cui andare a paragonare la scena 10-15 anni fa la scena attuale e tutto sicuramente c'è differenza sicuramente penso che il livello di competizione sia più alto e per un debuttante in western state le cose si complichino per cui chapeau è tanto di cappello per quel che mi riguarda anche perché il parterre maschile era bello fitto, bello fornito nei primi posti al di là di detonazioni clamorose importanti e tutto comunque sono arrivati atleti di tutto rispetto e anche qui senza voler entrare in un discorso troppo grande cioè la differenza di prestazione fra uomo e donna il fatto che l'anno scorso fossero arrivate così tante donne nei primi 10-20 posti e quest'anno le cose si siano un po' riequilibrate da secondo me cioè spiega come la gara quest'anno sia stata veramente una gara combattuta e abbia veramente espresso i reali livelli delle persone che sono che sono arrivate alla fine quindi non ha vinto per demerito altrui qualcuno ma semplicemente chi ha vinto è perché è stato il più forte di tutti per cui io la trovo ancora più figa una cosa del genere ne avevo parlato quando abbiamo registrato la preview di Western da Colgallina e in realtà in quel momento dicevamo quello che ci aspettavamo era il classico per Peterman un top 5 sicuramente a top 10 è ovvio che nella mia testa io speravo andasse a finire così per quanto abbia anch'io a cuore Tollevson e tutta un'altra serie di atleti era a livello di storia a livello di narrativa perché tu sei disneyano forse assolutamente a livello di narrativa era la perfezione cioè uno che nel giro di 11 mesi passa di debutto in debutto dai 50 alle 100 miglia e si porta a casa tutto e si porta a casa tutto con un'autorità totale con un'umiltà assoluta perché poi come dicevi giustamente prima non è in tutta la gara non è mai andato dietro al record del percorso ma sentivo proprio nella sua intervista con Aaron Farley diceva ho corso al 95 al 97% di quello che potevo dare semplicemente ovviamente non è un dato reale però era un era un so di poter dare di più so che il mio tempo non è 15 ore e 11 minuti 13 minuti ma non è questo l'anno per farlo non era questo il momento e questo era il momento di usare il momento giusto per andare all'attacco mantenere la prima posizione portarsi a casa la vittoria e gestire in questo modo il debutto sulla distanza e secondo me è stata una cosa di una lucidità totale poi onestamente ne parliamo anche lui ha 26 anni ne avevamo discusso riguardo a Kenyons e ha la stessa età che ha Jared Eisen Jared Eisen sono 10 anni 10 anni no perché sarebbe sarebbe partito da un po' giovane però sono almeno da quando aveva 19-20 anni che ormai sentiamo parlare le sue prestazioni comunque alla Western splendide le ha avute e parliamo di anni fa quindi hanno la stessa età uno con esperienza l'altro no è assurdo pensare che uno appena arrivato in questo mondo abbia la maturità per riuscire in gara a ragionare su quello che sta facendo e capire la dimensione di quello che sta facendo è onestamente una cosa che mi ha stupito e anche nelle interviste dopo è veramente una persona con la testa sulle spalle sono sinceramente curioso di vedere dove potrà andare cazzo padre poi per carità può anche sparire completamente e non riuscire mai più a rientrare in forma resterà clamoroso questo suo anno perché è vero prima parlavamo di debutti su Western credo che onestamente i debutti a Western sulla distanza con vittorie quelle forse si contano sulle dita di una mano e anche anche forse sulle dita di una mano a cui mancano delle dita sì e comunque una serie di filotti così come abbiamo già ripetuto 6200 volte sono incredibili a inizio anno parlavamo di promesse cioè di il giovane che ha esordito molto bene nel 2021 che si è affacciato bene a inizio anno lo gli affibbiavamo la la nomea il sì lo dipingevamo come la promessa chiedendoci se avrebbe mantenuto le attese diciamo che direi che adesso non siamo più di fronte alla promessa ma diciamo di fronte alla realtà la domanda vera è sì adesso che hai fatto cioè hai fatto tutto e hai vinto tutto parentesi potresti cominciare anche un po' a stare sul cazzo però se sei così sciallone anche no la domanda è cosa farai? non so se avevi sentito sull'intervista che lui adesso sarebbe intenzionato a vedere di riuscire a portarsi a casa un qualifier per i tre olimpici in maratona quello segue la scena di Wamsley sì però è stato interessante anche vedere nella sua intervista che al posto che cadere nella classica trappola in cui cadono gli americani post western e dire ma adesso comunque sono in forma e vado a fare magari non UTMB ma vado a fare CIC quando gli hanno detto cosa vorresti fare lui ha risposto guarda per un mese non correrò assolutamente poi vediamo vorrei fare i campionati mondiali di trail e magari qualche distanza corta e magari qualche altra gara adesso va a pescare esatto maturità totale sono veramente scioccato sono scioccato perché siamo abituati a è sbagliato dire atleti che si montano la testa è assolutamente sbagliato perché mi rendo conto che nel momento in cui sei in forma vuoi anche andare a metterti alla prova con altri parterre con altri atleti quindi ci sta a dire ho fatto bene a western vado a provare CIC vado a provare UTMB cazzo dimmi te perché pensi è il mio anno sto bene se tu vincessi la western al debutto cioè andresti probabilmente in giro nudo con la figlia credo farebbe chiunque così e la coppa in mano non dimentichiamo però però sì è pazzesco pensare che è una persona che un mese e mezzo fa dopo Kenyons non era certo di voler fare western states perché temeva che la distanza e la gara fosse più grande di lui sono sicuro che sia partito con questo pensiero in testa e arrivato qui molto lucidamente dice no adesso basta ho fatto abbastanza per quest'anno tiro un pochettino il fiato faccio delle cose un pochettino più brevi poi per carità andare a fare un ottimo piazzamento ai campionati mondiali sarebbe veramente tanta roba però è tutto il resto lo vedremo l'anno prossimo sono curioso di vedere se ci ci farà o meno mi pare che nell'intervista non ne parlasse non ha proprio citato io dico che non si presenta però comunque non lo so non mi stupirei diciamo non mi stupirei però se facesse invece seguisse il suo piano tanto di cappello l'avevo già detto a Canyons dicevo se non prendesse il Golden Tic tanto di cappello ed era anche quello sempre più una speranza che altro però vabbè piuttosto che Hawks preferisco abbia vinto lui ma per una simpatia personale così a livello di gara maschile devo dire che secondo me c'è stato un cioè la strategia chi è arrivato in fondo e chi è partito secondo me con un po' più di calma o comunque abbiamo assistito molto più sicuramente più degli ultimi due anni in cui c'è stato sempre solo leader davanti abbiamo più assistito a gente che è andato piano piano a rosicchiare minuti secondi a chi aveva davanti per poi portare a casa un ottimo piazzamento perché come dicevamo Peterman ha avuto una strategia di gara incomiabile correndo qualche miglia insieme a Hawks nel momento in cui sono arrivati cioè è riuscito a prenderlo per poi 70 25 miglia dalla fine pian piano aumentare sempre più passo dandogli 30 secondi a miglio per finire a una mezz'oretta davanti a lui che quando lo leggi a me suona veramente clamoroso perché comunque per come avevo visto Hawks e per come aveva condotto fino a quel momento una gara e per il fatto che non sia mai esploso non avrei mai pensato che avrebbe potuto comunque prendere un 30 minuti di distacco quindi significa che la differenza è stata fatta in maniera allucinante negli ultimi miglia sicuramente c'è più c'è da correre però sempre nell'intervista parlava di queste di queste salitine di questi strappetti fatti a tuono e se non sbaglio il pacer di Hawks quando ha visto fare uno o due climb a Peterman ha detto questo per me è trash che non è una long run sicuramente ha buttato giù i cavalli pesanti pur avendo qualche problemino a livello calorico non so se hai letto hai sentito che ingurgita 400 calorie l'ora avrebbe voluto prenderne di liquidi e per la maggior parte esatto di liquidi e poi anche lì la maturità di riuscire ad aggiustare la propria strategia con un altro tipo di piano e avere la lucidità di cercare un surrogato rispetto a quella che era la tua idea iniziale questo ha vinto mangiando caramelle gommose a gusto frutta nient'altro non riusciva a mangiare nient'altro non oso immaginare la quantità di caramelle che ha dovuto buttare giù poi è anche lì secondo me comunque non per spezzare la lancia a favore di qualcuno che invece ha avuto crampi e ha avuto il corpo che si è bloccato come dice lo stesso Peterman bisogna avere anche un po' di culo con un po' più tatto lo ha detto ma con grande onestà cioè se hai il corpo che comunque riesci a nutrire con orsettini gommosi puoi essere veramente il più forte di tutti però hai qualcosa in più che ti dà madre natura perché se mangiassi le liquirizze di Aribo o le colafrizze dell'Aribo farei fatica probabilmente anche a fare 5 chilometri comunque tornando sul tuo discorso di Hawks leggevo leggevo non ricordo dove forse forse era l'intervista di Aaron Far che lui era uno convinto che fosse la sua giornata e sembrava così perché poi onestamente dal dal 35esimo miglio al 75esimo miglio è sempre stato da solo era convinto fosse la sua giornata ed era convinto di avere un quarto d'ora di vantaggio su Peterman quando si è visto sbucare da dietro non deve essere stato un cioè deve essere stato un mormone sempre un bello shock psicologico che poi Hawks è finito mezz'ora dietro anche perché poi ha avuto gli stessi problemi dell'anno scorso a livello di intake calorico e di riuscire a tenere roba nello stomaco anche lui ha vomitato ma chi non l'ha fatto quest'anno però però deve essere stato un un colpo un colpo pazzesco bisogna anche dire a sua discolpa secondo me a suo vantaggio cioè è stata comunque la sua giornata qualcuno una sola persona ha avuto su 380 che partivano ha avuto una giornata migliore della tua però ripensando al decimo posto dell'anno scorso ottavo posto d'uomo sì non decimo ottavo posto uomo in una gara è andata maluccio sicuramente è stata una giornata clamorosa per lui noi guardando dicevamo prima o poi esplode prima o poi esplode prima o poi esplode non è mai esploso per cui cioè bisogna solo arrendersi nel momento in cui qualcuno ha avuto la giornata leggermente meglio della tua tutto qua sono contento delle conferme di Italia Green di Ruolman che sono due atleti che a me piacciono molto quindi atleti casa Nike anche loro partiti dietro partiti con calma pur essendo arrivati due posizioni dietro al loro al 2021 hanno entrambi migliorato di 10-12 minuti il cronometro che avevano fissato che avevano fermato lo scorso anno una gara solida sono due atleti anche loro testa sulle spalle che fanno un bel po' di gare consistent come direbbe il nostro amico Dylan Bowman per cui onore al merito sicuramente chi è partito fortissimo è solo uno ed è Ludo Pomare onestamente nessuno di noi esatto se lo aspettava perché è un fine stratega o quantomeno tutte le gare che ha dominato se le porta a casa partendo con calma e giocando di strategia mi ha letteralmente stupito soprattutto considerando la prima partecipazione un terreno decisamente diverso da quello a cui sei abituato a livello europeo sicuramente molto diverso anche da diagonale della Reunion però tutto sommato io ero convinto che non avrebbe portato a casa il primo posto ma credo un po' tutti ma probabilmente anche lui forse la strategia è mi porto avanti adesso che so che poi in discesa scendo dicendo agli altri ma si tranquillo tanto poi mi riprendi così alla fine è stato però un sesto posto di assoluto rispetto primo dei francesi possiamo dire secondo dei francesi è uno su cui avevamo non è vero che avevamo guffato probabilmente su di lui non l'avevamo assolutamente considerato in quanto vincitore del 100 dei templi e quindi il classico che prende il Golden Teele perché gli pagano il biglietto aereo e si fa la vacanza in realtà Vincent Viet atleta New Balance diciamo ha fatto una prestazione assolutamente strepitosa perché finire in top 10 quando sei un underdog cagato da pochi è impressionante considerando appunto il parterre di cui dicevamo prima secondo dei francesi terzo francese in realtà è esploso che è Steve Speller il più americanofilo dei francesi è partito decisamente bene nel pacchetto dei primi tre dei primi cinque per le prime 30-40 miglia e poi si è fermato a causa di problemi di stomaco vuoi aggiungere altro a livello di riconferme Alex Nichols assolutamente immortale dopo un nono posto o decimo posto decimo m10 giustamente l'anno scorso è tornato a scalare un pochettino la classifica lui che è stato anche secondo mi pare quattro anni fa la sua prima partecipazione lui per me immortale lo dico perché è esattamente identico a come a come nelle foto di quando faceva da pacer a Krupicka nella sua prima partecipazione all'Edville quindi uno che non invecchia coach di track and field penso anche quest'anno i suoi studenti fossero venuti sulla pista a dargli il benvenuto contentissimo mi aspetto che torni assolutamente anche l'anno prossimo lui che ormai ha fatto l'abitudine alla gara segnalo anche Cody Lind che conosce molto bene western perché comunque suo nonno è stato responsabile medico della gara per anni Bob Lind una cosa una cosa di questo tipo o John segue i nomi no Bob Bob Lind e lui che era arrivato quarto l'anno scorso è andato meglio della è lui che è il marito della della Peterson lei quest'anno è saltata o è andata fuori dalla sedicesima è la Heninger che è saltata mi stavo confondendo decimo posto per Scott Ryer nostro eroe locale forse uno dei pochi vincitori di Golden Ticket non vincitori di gare che effettivamente è andato bene quest'anno perché anche tutti gli altri vabbè Jeffrey Gold comunque è arrivato un dicesimo quindi non male True Heartbound non è riuscito a partire perché aveva il suo lavoro da pompiere questo ci è stato segnalato da Davide Dinosio e onora al merito a lui purtroppo va al turno quindi niente gara per lui però effettivamente tolto Viet sono veramente oddio e tolto Viet e escludendo completamente Peterman perché è al di fuori di ogni possibile ragionamento sono pochissimi quelli che che dal Golden Ticket si sono portati a casa qualcosa di importante in questa gara è andata forse meglio una faccio un passo indietro ce n'è solo uno degli uomini che non abbiamo nominato terzo posto Arlen Glick ne parleremo poi più avanti nello specifico però lui ha fatto una gran gara e secondo me lui è assieme a Tyler Green hanno messo in piedi un bello show negli ultimi negli ultimi venti chilometri del percorso una piccola gara nella gara sono arrivati all'ultimo taglio prima di entrare sulla pista atletica che erano a distanza di 15-20 secondi l'uno dall'altro e ovviamente questa cosa Arlen Glick l'ha scoperta nel momento in cui uno dei suoi pacers uno dei suoi assistenti gli ha detto ecce Tyler e allora ha cominciato a menare sul campo d'atletica però è stata è stata una bella gara infatti nelle interviste poi post-gara sono entrambi lì da segnalare anche appunto il fatto che Glick sia stato un po' questa figura chiave sia per Peterman che per Hawks Peterman che aveva detto che nelle prime 20 miglia del percorso non si sentiva benissimo era non girava non era in giornata gli si è affiancato Glick hanno cominciato a parlare di pesca e di cose di questo tipo di uscite gli è svoltata la giornata a Peterman e direi che gli è svoltata in bene stessa cosa è successa anche a Eden Hawks che ha parlato di 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 Arlen Glick come di una figura che l'ha aiutato a a smuoversi nel nel corso della giornata tornando all'aggancio che stavo facendo prima rispetto ai ai vincitori Golden Ticket questa volta però in chiave femminile secondo me molto meglio anche solo nominando il terzo posto di Maria Nogan ne avevamo già parlato svariate volte nelle varie preview era saltato fuori il suo nome su Ultra Trail Cape Town era arrivata seconda dietro la da Walter si è riscritta a tutte e tre le gare per vincere il Golden Ticket se l'ha portato a casa immediatamente a bandera e ha fatto una gara ha fatto una gran gara terzo posto dietro a una fantastica con Ruth Croft che si porta a casa il terzo posto il terzo tempo assoluto per quanto riguarda le gare donne l'avevamo detto nelle previsioni era quello che sia io che te ci aspettavamo come primo posto assoluto della gara avessimo fatto una previsione seria dicendo secondo noi arriverà Ruth Croft come prima ovviamente Ruth Croft probabilmente avrebbe scavigliato a metà delle escarpment e si sarebbe ritirata però in realtà le abbiamo le abbiamo portato bene per una volta secondo posto per Issa McDonald anche lei aveva già gareggiato qui nel 2018 aveva avuto una giornata con alti e bassi però usciva da veramente un bel anno dove aveva fatto aveva fatto veramente bei risultati e secondo me va a confermare di quello che c'è di buono in lei nel momento in cui riesce a riesce ad annullarsi senza avere senza avere infortuni lei contentissima ovviamente 20 minuti dietro la Croft comunque gran tempo beniamina nostra anche lei ne avevamo discusso nelle preview secondo me le beniamine sono back to back quarto e quinto posto quarto posto per Lucia Bueller che ci aveva già sorpreso onestamente a UTMB prendendosi il quinto posto e lei ha fatto secondo me una gara molto 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 intelligente non niente fuochi d'artificio niente di spettacolare molto sotto sotto i radar nel senso non si è fatta molto notare nel corso della giornata alla fine è stata per larga parte della gara verso il decimo decima posizione non una posizione eccetera nelle ultime 30 miglia di gara ha cominciato a salire per quanto poi anche lei ha detto che comunque nella parte finale aveva cominciato a stare male e non riusciva più a buttare giù calorie però quarto posto è veramente una bellissima conferma lei che era già stata a Western altre due volte il suo miglior piazzamento credo fosse un dodicesimo posto l'anno scorso mi pare lei è stata un pettorale ultra trail world tour quinto posto Emily Ogwood sembrava dovesse giocarsela assieme a Ruth Croft per il primo posto hanno fatto un gran pezzo della gara della gara assieme loro sono compagne di team e in realtà credo che a un certo punto la Croft abbia cominciato a pestare duro o la Ogwood abbia cominciato ad avere problemi lei secondo me ha fatto una gara ha fatto una bella gara ma come pomeretta ha fatto una gara forse non la sua o comunque non quello che mi aspetterai da lei anche lei ha cominciato un po' a scalare le prime posizioni della classifica molto presto molto presto nelle prime miglia della gara oddio nella prima metà della gara mettiamola così e non capisco se questa cosa poi effettivamente l'ha pagata o se come tutti ha cominciato ad avere problemi fisici o di stomaco ed è cominciato a scendere di posizione in posizione infatti bene o male la mcdonald la hogan la bueller l'hanno tutte ripresa forse la la bueller l'ha proprio ripresa negli ultimi dieci chilometri comunque quando mancava veramente poco sesta posizione lì a ingling anche lei arrivava da da un golden ticket anche lei arrivava da canyons lei aveva fatto un garone ha rifatto secondo me la stessa gara che aveva fatto a canyons cioè una gara in totale sordina per la prima metà per la prima parte e poi ha cominciato a scalare la classifica lei credo di averla vista nella notte mentre scrollavo twitter di iron far credo anche di averla vista intorno a sedicesima diciottesima posizione e poi con calma tra quelle che sono saltate vedi la enninger o la peterson che ha cominciato a scendere di posizione e appunto quelle che hanno cominciato a avere problemi fisici lei si è presa tutte le posizioni ed è arrivata un ottimo sesto posto settimo posto per taylor nolin me la sono dimenticata ovviamente nel post di post western che avevamo fatto domenica mattina da cortina ci ha sorpreso lei anche lei arrivava da golden ticket lei secondo me ha sorpreso tanta gente non mi sarei sorpreso non sarei stato sorpreso di vederla in top 20 mi ha sorpreso tanto a vederla in top 10 penso sia stata sorpresa anche lei in realtà era un paio di anni che lei faticava a trovare una sua quadratura a livello di gare basti anche solo pensare il fatto che comunque il golden ticket l'ha preso per il rotto della cuffia quindi si lo dicevamo post gara cortina esatto una che contentissima di aver fatto la gara del secolo ma sa benissimo perché l'ha dichiarato che può fare veramente di più è Camille Lerron che ha detto sto cominciando a capire la gara non so cosa voglia dire questa cosa però è uno di quegli atleti e potenzialmente ci vede un parallelismo con Tollevson di quest'anno che l'anno scorso ha voluto finire la gara perché la prima volta che aveva partecipato a Western non era riuscito a terminare la gara l'anno scorso aveva finito in 27 ore quindi aveva una normalissima backhold di quelli non sub 24 quest'anno ha avuto una gara di alte e bassi si è vista in posizioni basse della classifica in posizioni alte della classifica è stata male a metà è rinata è andata a rimangiarsi posizioni è riuscita a rientrare in top 10 sono sicuro al 200% che lei si ripresenterà l'anno prossimo palizzade stavo dicendo a S asterisco 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 W vale a chiudere nona e decima posizione della classifica Katie Asmuth e Camille Bruas la Bruas secondo me su cui un pochettino io e te ci puntavamo ha fatto una gara completamente anonima assolutamente però ha fatto il suo infatti è totalmente anonimo anche ritrovarsela nella top 10 nel senso che scorre e dici a cazzo c'era anche il Camille perché non hai mai sentito parlare mi rifaccio il tuo discorso perché ho fatto proprio ho contato delle prime 10 donne 5 sono vincitrici di Golden Ticket quindi siamo completamente in un altro livello rispetto agli uomini e solo 3 in top 10 l'anno scorso a differenza degli uomini che erano 5 altra cosa particolarità che abbiamo trovato penso entrambi su Iranfar le prime 5 sono 5 atleta straniere Ruth Croft è neozelandese Issa McDonald è canadese Mariano Ogan Lucia Buller Lucia Buller Svizzera Emily Ogwood Zimbabuina il resto beh una francese il resto sì quindi curiosità curiosità nella curiosità abbiamo parlato forse delle prestazioni un po' meno importanti in western ci teniamo per ultimo forse la prestazione più importante che c'è stata perché io credo che l'uomo si veda al di là del risultato che porta a casa e forse quello che passerà alla storia nel 2022 è la grandissima prestazione di Tim Tollefson a livello umano no sto scherzando possiamo tranquillamente andarci oltre infatti ti ho visto un po' stranito no no ho capito che avevi capito la deriva secondo me arriva a parlare di no possiamo dire in realtà una cosa che non ho detto riguarda le donne poi torniamo su Tollefson brevemente brevemente come vuoi o anche lungamente Ruth Croft miglior arrivo di sempre a si a Auburn assolutamente non spoilerare niente chi non l'ha visto deve vedere esatto andatevi a vedere l'arrivo di Ruth Croft in pista a Auburn assolutamente no Tim Tollefson interessante secondo me si vede il lavoro che ha fatto e di cui lui ha parlato in più podcast a livello a livello mentale perché ha subito sentito il bisogno di esplicitare quello che è successo in gara e di trovare una quadra a quello che è capitato non è per gente da lacrime facile comunque vedere l'arrivo perché non è non è facile è un po' da pelle d'oca è vero non è facile per un atleta elite decidere che comunque voglio onorare la gara con nessun tipo di obiettivo perché hai già finito western non sarai nella top 10 quindi non puoi tornare l'anno prossimo avrai una seconda buckled ma vabbè non è facile soprattutto per una persona che puntava al primo posto semplicemente non lo nascondeva nel senso era questo il suo obiettivo primo posto che ha visto molto vicino perché c'è stato un momento in cui correva assieme a a pitterman forse intorno alla terza posizione comunque esatto c'era ancora davanti lodo ok però era appunto attorno alla terza posizione e poi di colpo sparito dal tracking di di Alan Farr perché appunto è rimasto fermo per un'ora mi pare a Robinson Flat poi la sua crew l'ha convinto a fare un altro pezzo a vedere come andava lui piano piano si è ripreso e ha deciso che avrebbe vissuto delle piccole cose trovate lungo il percorso un quadrifoglio il battito di ali delle farfalle si la poeticità degli americani lo prendo in giro ma in realtà è molto 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 ammirevole perché comunque è un tipo di logica che posso quella del finire la posso capire assolutamente dalla pancia del gruppo perché comunque non è ma anche quello dalla cinquantesima posizione in su dalla trentesima posizione in su non stai facendo veramente gara per nessuno se non per te stesso per il tempo per i tuoi obiettivi personali quelli che stanno davanti sono lì per vincere sono lì per per far contenti gli sponsor sono lì per portarsi a casa magari anche un premio in denaro perché comunque sono atleti professionisti anche quello serve sono lì perché hanno fatto sacrifici sono lì perché hanno preparato nello specifico una gara e perché hanno lavorato per mesi una cosa vedersela sfumare in questo modo a così tanto a così tanta distanza dall'arrivo non è non è facile riuscire a rimettersi mentalmente in sui binari giusti per dire voglio comunque arrivare alla fine e onorare quello che è stato il percorso che è stato fatto fino a qua sì esatto esatto al di là della gara il percorso perché era l'obiettivo con la o maiuscola e sì non è non credo che sia semplice il tutto ripartire aver la voglia di arrivare in fondo e cercare di trovare cioè è evidente un un meccanismo che crei al tuo cervello nel momento in cui dici cerco qualcosa di positivo anche da questo perché sì dal punto di vista di un atleta c'è poco di positivo da portarsi a casa da una giornata del genere a prescindere da chi ha vinto che poi appunto noi scherzavamo ha vinto uno che ha provato la prima volta però poteva vincere anche uno che era per la quarantesima volta lì se tanto a te è andata così di merda te ne freghi di cosa è successo davanti che poi era lui che diceva uno dei motivi che l'avevano tenuto in gara uno dei tanti perché poi andatevi a leggere se avete curiosità i suoi tre o quattro post su instagram dove spiega le varie sezioni della gara e cosa come ha lavorato a livello mentale una delle cose che ha tenuto in gara e l'ho trovato interessante e penso sia lui e spero sia lui onestamente e nel caso glielo sto attribuendo e va bene così diceva non volevo ritirarmi perché la mia presenza ha tolto il posto a un'altra persona e togliermi a metà gara era secondo me non portare rispetto a qualcuno che avrebbe potuto correre e godersi questa gara tenendo conto complimenti per la lucidità tenendo conto anche che anche per quello che ho letto anche sul seguendo twitter sulla pagina ufficiale di western ci sono persone che sono state estratte dalla sono state prese dalla waiting list a 24 ore dalla partenza e che hanno finito la gara quindi è gente che comunque ci crede fino in fondo è ovvio che non è che puoi dire ah Alessandro Rocchatelli è preso dalla waiting list è il tuo turno vieni a fare western parti domani dall'Italia ecco no è tutta gente che viveva in America e quindi aveva la possibilità e la speranza ancora di poter correre western però è vero cioè è la presenza di un elite o di una persona che è lì perché ha il pettorale dall'anno prima ha vinto un golden ticket e lì grazie a uno sponsor toglie un posto molto richiesto molto ricercato a un'altra persona quindi è una forma di rispetto anche quello è una cosa che in quanto non elite è una cosa che ho apprezzato veramente tanto questo tipo di lucidità quindi bravo team sempre nei nostri cuori comunque qualsiasi cosa tu faccia e ultima cosa a livello di team ne parlavamo te l'ho chiesto anche dal vivo e te lo chiedo anche qua pensi che farà un ragionamento stile da Walter post ritiro hard rock che dice no la mia forma fisica c'è non l'ho veramente sfruttata interamente per una gara aspetta che vado a farne un'altra ad esempio se ci fosse una gara per esempio a fine agosto no io non penso che andrà a fare mia opinione pensavo che pensessi l'altra domanda fate anche la domanda e fate la risposta la domanda pensavo che mi facessi poi rispondo all'altra serie è uscirà la serie che ho pensato su team Tolleson dato che è andata un po' rovinata per problemi di hardware software onestamente non lo so onestamente non so se Tolleson abbia voglia di vedersi la serie non ti saprei dire onestamente perché da un certo punto di vista potresti riscattare la stagione hai due mesi di tempo per farlo però nel momento in cui hai già programmato l'obiettivo a giugno e tutte le gare che ti portavano a quelle erano improntate a una tipologia di gara particolare come Western switchare e girare su UTMB visti gli ultimi UTMB potrebbe essere più veramente più andarsi a schiantare su un palo ti faccio una domanda bonus come lo vedresti a Leadville ecco piuttosto sì perché tu hai detto fine agosto quindi mi hai tratto un ingresso mi hai detto metà agosto ecco Leadville sì potrebbe essere una gara anche perché non ha solitamente un parterre così pieno così partecipato a livello di Elite ci potrebbe anche stare potrebbe essere quella volta che dici vabbè è andata così ho una preparazione abbastanza che può adattarsi anche se devo vivere un po' più in altitudine per adattarmi a una gara che non entrerebbe mai nella mia bucket list perché è messa male però è comunque una gara gloriosa è comunque una gara storica ci potrebbe anche stare che visto l'anno la butto lì e provo a portarmi a casa una Leadville se fosse così mi spiacerebbe che dovrei switchare slittare un po' il mio viaggio di nozze per andare a vedere Tollevson che porta a casa la vittoria tuo modi capirà non è un problema sì penso di sì penso di sì anzi è quella che continua di me ma perché non vai a settembre al mountain come si chiama mammoth lake trail mountain festival continua in sito ma l'anno prossimo devi andare va bene ok se mi paga ma volentieri andrei chiudiamo vogliamo concludere chiudiamo solo la parte di western con un paio di statistiche non è ancora uscito sei l'uomo statistica vai western states ha sul sito una parte chiamata geek cioè tutta dedicata a dati e cose di questo tipo purtroppo non è ancora uscito il questionario di quest'anno che viene mandato ovviamente a tutti gli atleti a tutti gli atleti post gara immagino che nelle prossime settimane verrà rilasciato dove chiedono con che scarpe hai corso con che calze cosa hai usato per mangiare eccetera eccetera una cosa che amo alla follia però c'è anche tutta una serie di dati che comunque vengono rilasciati e quello che posso dire è curiosità in termini di difficoltà e la difficoltà viene calcolata in base al tempo medio di percorrenza degli atleti questo è stato il diciottesimo anno in classifica per quanto riguarda la difficoltà quindi comunque media classifica mettiamola così 80% di finishing rate solo 100 persone sub 24 su 380 più o meno però se guardiamo l'anno scorso che aveva temperature più alte l'anno scorso solo in 57 hanno una fibbia in argento terzo anno più caldo degli ultimi dieci anni nella top 10 dei tempi migliori 3 dei primi 4 sono di Walsley questo ne avevamo già parlato uno è di Azen tra l'altro è il secondo o il terzo è il secondo sì giusto perché nell'anno del record lui è arrivato secondo due tempi sono di Carr uno è di Olson uno è di Tom Evans ma solo perché è arrivato terzo dietro ad Azen e a Walsley uno è di Sundes cosa che mi ha stupito perché non me lo ricordavo ma è arrivato secondo dietro a Timothy Olson e uno è di Geoff Ross che è l'anno famoso di Unbreakable con Krupicka arrivato dodicesimo con lo stesso tempo più o meno di Peter Man di quest'anno quindi per rispondere alla domanda che ci eravamo fatti rientra all'interno della top 10 dai tempi più veloci no è l'undicesimo tempo più veloce di Western per quanto riguarda le donne Croft Ruth Croft ha il terzo è il sesto tempo migliore di sempre due partecipazioni due garde a 100 miglia due top 10 per lei a Western States Ellie Greenwood regna in contrastata Forever and Never e resterà lì per ancora un po' di tempo si spera il record più vecchio è quello di Antreson che è del 1994 ed è l'ottavo tempo più veloce nella classifica di femminile di Western all'interno della top 10 dei tempi più veloci troviamo anche Gallagher Beth Pascal che ha vinto l'anno scorso Corny da Walter Brittany Patterson che però era arrivata a seconda quell'anno dietro la Gallagher vado a memoria Ragnar DeBaz arrivata terza dietro a Pascal e Croft e Issa MacDonald che è arrivata a seconda quest'anno quindi comunque un anno abbastanza veloce per le donne perfetto passiamo quindi alle altre gare del mese e partiamo con la gara che si è svolta sempre lì ma indicata con un nome diverso cioè Olympic Valley il weekend prima quindi gli americani cioè non solo a livello internazionale ma anche gli americani cercano di non so di come si può dire racchiudere le gare non solo nel periodo vicine ma anche nello stesso identico posto ma alla fin fine se devi fare manutenzione sui sentieri la fai una volta per due gare e sei a posto così secondo me è un evento che sta crescendo tanto quello di Borcanero e a livello di di posizionamento all'interno del calendario secondo me è geniale perché comunque tutti quelli che vengono anche dall'estero per andare a fare ho visto ad esempio il il titolare di Willpower Running arrivava da Berlino aveva una crew di quattro persone che ovviamente non partecipavano a Western States sono arrivati lì una settimana prima alcuni di loro hanno partecipato alle gare di Brocanero tanto erano già lì quindi praticamente diventa questo hub di corsa per dieci giorni sì poi sono molto entusiasti a livello americano di questa formula che definiscono europea per loro è europeo il fatto di avere tre giorni di gare e soprattutto avere varie distanze all'interno dello stesso evento per cui per loro è europeo a prescindere da cosa sia ma il fatto di avere tre giorni di gare richiama a noi del vecchio continente gare che partono il venerdì con il vertical quest'anno hanno deciso di aggiungere una formula che io trovo ma tanto a loro non frega niente non ci ascolteranno mi sembra un po' una stronzata che è la Iron Face Challenge quindi la sfida della maschera di ferro il succo quello che a noi piace di più interessa di più probabilmente è il sabato con la 52 quello che invece è probabilmente l'evento più importante è la 26 km della domenica con possibilità di fare il triple crown quindi di iscriversi a tutte e tre le sfide tolte alla maschera di ferro per portare a casa la palma del vincitore del migliore che si è classificato in tutte e tre le discipline questa cosa è tipicamente americana cioè sfidarsi anche in giorni seguenti in distanze diverse e avere questa multiversabilità di cercare questa multiversabilità direi che sul vertical ho guardato i nomi ma non è che siamo cosa che ci compete più di tanto se a volte snubbiamo gare da 20 25 30 km faremo un po' ridere andare a descrivere un vertical mi incuriosisce la sfida dell'iron man dell'iron face challenge in cui c'è una sezione di via ferrata per cui obbligatorio l'utilizzo del caschetto e qui si capisce perché a te non interessa no beh questo assolutamente mi vado detto va lo dico e fa ridere pensare che non portino alcun tipo di materiale obbligatorio e in questo è previsto addirittura il caschetto e probabilmente anche un moschettone gara vinta dall'eroe max king secondo posto sage canaday quindi si ha richiamato anche gente che era lì di passaggio probabilmente ha detto ma si provo questa nuova questa nuova questa nuova sfida e terzo posto per adrian ballinger che probabilmente non conosci ma che seguivo anni fa perché ha fatto una ascesa sull'everest senza senza bombole aggiuntive d'ossigeno infatti world class montanera assolutamente lui ha una ha una ha un'azienda che gestisce proprio spedizioni su sugli 8000 e quindi lui ogni anno fa una una scesa all'everest quindi tutto qua perfetto sabato è la gara con più ciccia per quel che ci riguarda perché uno di quelli che avrebbe potuto partecipare a western state ha deciso di declinare il golden ticket ed è david sinclair molto probabilmente anzi quasi sicuramente per dedicarsi a questa gara che è gara locale per lui che abita dietro l'angolo abita a tra chi e quindi sempre zona lake tao che si porta a casa la vittoria in 4 ore e 22 non è la prima volta che vince nelle sue corde evidentemente è quello che gli piace e posso dire tanto di cappello per lui che decide di rinunciare a qualcosa che probabilmente al di là di forse non è il mio sicuramente non mi interessa cioè il fatto che abbia declinato ci fa capire che gli interessa poco e si dedica a qualcosa che per lui dà più soddisfazione l'eroe del giorno ma solamente perché ha acquisito il cognome del padre è Eric Lipuma che scopro oggi esistere è arrivato al secondo posto due minuti dopo ma con un nome così ormai abbiamo una lista di persone che ci da Gio Campanelli al terzo posto Jeff Mogavero tutti questi nomi che ci richiamano un po' pizza e mandolino ci mandano fuori devo essere sincero io Eric Lipuma già lo conoscevo ma per una questione lavorativa perché quando un paio di anni fa Iron Farmy ha fatto disegnare degli sticker per loro una delle maglie anzi sticker e maglie una delle maglie l'ha disegnata proprio Lipuma e ho pensato ah è come me ma corre forte ok dovresti chiamarti Alessandro Licatelli Licatelli vediamo se cambia qualcosa quinto posto un grande ritorno per Matt Daniels che ritorna probabilmente a una distanza che è la sua oddio è arrivato quarto alla sua prima western quindi sicuramente anche quella distanza non è male e vediamo onestamente se sarà l'inizio di una di una di una ripartenza o se lo troveremo a a mangiare pizza a a a a l'ultima volta che l'ho visto lui e il suo baffone intreso di pomato sauce quindi sono curioso ma anche perché era dato come uno degli astri nascenti venendo da è uno delle persone che è riuscito a fermare il cronometro sotto i 4 minuti sul miglio in America ce ne sono molti ma comunque si contano sulle dita di tante mani ma loro sono tanti quindi quindi ci sta ed è per loro è sinonimo di una di uno che viaggia per loro per chiunque però loro sono molto attenti al sub four sul miglio gara femminile invece vinta da Jennifer Litter seconda Brittany Charbonneau e terza Georgia Porter andiamo alla domenica cosa importante sul sul sabato non lo sapevo ovviamente ma facciamo già fatica a capire i criteri di selezione della nostra nazionale per cui che sapessimo anche i criteri di selezione della nazionale americana per il mondiale di trail era difficilmente cioè era difficile che lo sapessimo però i primi due uomini i primi due donne nella 52 hanno ottenuto la maglia statunitense appunto per presentare gli Stati Uniti in Thailandia quindi parliamo del tuo amico Eric Lipuma e nemico in quanto avversario di impresa avversario David Sinclair Jennifer Lichter e Brittany Charbonneau veniamo alla domenica che è la gara un po' che cattura di più l'attenzione del pubblico statunitense e ha visto la vittoria di Andy Walker che avevamo già incontrato in varie tappe della prima Golden Trail Series non mi ricordo se ci fosse anche l'anno scorso lui si ha cambiato sponsor da Nike a Salomon credo quest'anno perché o semplicemente sono andato io a vedere due tre mesi fa il suo profilo e ho trovato Salomon ma magari l'ha cambiato da un pochino quindi parliamo di Andy Walker primo poi Ellie Heming secondo e terzo posto Cam Smith che ha vinto il Vertical del venerdì per quel che riguarda le donne sulla 26 Sofia Lauckley prima Ellie McLaughlin che abbiamo già incontrato a secondo posto è un'altra nostra conoscenza è Ashley Brasovan arrivata a terzo posto se non sbaglio vincitrice dell'ultima edizione di Speedgot quindi 2021 Speedgot ultimo nome che conosciamo è il vincitore del Triple Crown che è Mario Mendoza in 8 ore e 16 è riuscito a chiudere il Vertical la 52 e i 26 km un altro personaggio che quando partecipa a qualcosa comunque non sfigura e riesce a portarsi a casa sempre qualcosina quindi lo sottovalutiamo sempre ma in certi contesti qua ha sempre fatto bene a Broken Arrow a Sonoma ha sempre fatto bene per cui Mario Mendoza sei uno dei nostri lui è la dimostrazione del fatto che non hai bisogno di correre veloce su tutte le distanze su un Triple Crown hai bisogno di fare bene in tutte le tre giornate non hai bisogno di fare risultati incredibili anche la Bradley forse era sul Triple Crown ma ha avuto poca me l'avevo segnata ventesima ed è bello segnare il primo e il ventesimo ah nota dimensione Cat Bradley ventesima brava sta un po' più facendo fatica a riprendere però ci crediamo ancora tanto arriva arriva al suo momento probabilmente a Cdc come al solito ogni anno per quanto riguarda torniamo per quanto riguarda le gare in Europa torniamo appunto da questo lato e torniamo a Bayou TMB parliamo di una coppia di gare Mozart e Trail du Saint-Jacques è diventato un po' un leitmotiv nostro quello del del dire che effettivamente le gare Bayou TMB non hanno tutto questo parterre proprio perché ci sono ci sono un sacco di ci sono un sacco di gare in contemporanea gli atleti non possono essere ovunque né dimostrazione del fatto che comunque non ci sono stati grandi nomi né in una gara né nell'altra per quanto riguarda Mozart tutti e tre gli atleti sono andati comunque sotto le dieci ore primo posto per Janos Kowalczyk secondo per Andreo Simon spagnolo e terzo Benedikt Hoffman tedesco un nome che in realtà conosciamo e che di cui abbiamo parlato spesso lato femminile primo posto è andato a Zara Garcia diciamo che conosciamo perché ogni volta che diciamo che può far bene puntualmente fa malissimo e ogni volta in cui la ignoriamo completamente lei fa benissimo quindi è andata a prendersi la vittoria a a Salisburgo con un tempo di 12 ore pulito pulito secondo posto per Teresa Nimesh e terzo per Johnny Josephson svedese un discorso che facevamo prima di passare al 3 de Saint Jacques su sulle gare by UTMB è sono comunque curioso di vedere cosa succederà nei prossimi anni nei momenti in cui gli atleti per andare a CCC e UTMB o OCC o quello che è quindi gare che gli interessa e gare dove non possono andare se non da top 3 o passando tramite lotteria se effettivamente verranno fuori un pochettino più di nomi un po' più grossi e magari un nome grosso lo ritroviamo poi più avanti ne parlerai tu per una gara che si è svolta in Spagna 3 de Saint Jacques anche qua pochi nomi importanti o perlomeno di quelli che conosciamo mi rendo conto che da quando abbiamo cominciato a fare long run conosciamo probabilmente 100 atleti uomini e 100 atleti donne americani anche tra i più sconosciuti probabilmente anche anche i loro parenti si dimenticano della loro esistenza la stessa cosa funziona qui per gli atleti specialmente francesi e spagnoli perché ce ne sono una quantità imbarazzante primo posto al 3 de Saint Jacques 3 de Saint Jacques ce la posso fare per Adele Agiali francese e primo posto uomo per Aubin Ferrari presumo però che è il meno noto dei Ferrari non è Ugo ma è Aubin che come giustamente dicevano sono riusciti a prendersi il loro posto per il loro posto futuro a UTMB 2023 sì vabbè ormai l'altro leitmotiv è tireremo le somme a fine anno perché è un po' prematuro dirlo ma sì probabilmente neanche gli atleti elite cioè gli atleti elite come noi non avevano capito bene la possibilità di arrivare direttamente a UTMB classificando i primi tre posti nelle gare per ora diciamo il livello molto 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 anacquato a poste cioè adesso mi rendo conto che molto probabilmente l'Ultra 3 World Tour per quanto negli ultimi anni anche anche quello si stesse un po' diluendo a livello di partecipazione era per ora una spanna sopra quello che si vede nel primo anno però ripeto diamo il beneficio del dubbio perché siamo a metà anno ed è il primo anno l'anno prossimo magari che le cose ingranano un po' meglio se riescono ad avere un calendario un po' più intelligente potrebbe essere più interessante a proposito di calendario intelligente parliamo di Andorra 100 by UTMB che si è svolto allo stesso weekend di Western allo stesso weekend di LUT come diceva Ale anche qui i nomi non sono particolarmente elettrizzanti a parte a parte uno l'uno è il Diko Vermescher la donna ungherese che ha vinto la gara in 19-18 non è lei ma dopo verrà fuori quello che è impressionante è che abbia vinto alla veneranda età di 56 anni anche qui onore al merito e la domanda che mi faccio sempre è il livello quale fosse però io ho 38 anni non ho mai vinto nessuna gara a prescindere dal livello neanche la gara di un paese quindi e di scegliere bene le gare evidentemente quello che noi amanti del delle Star Trek Stripes delle Star Trek hanno notato ovviamente è ritorno alla gara a una ultra di Zack Miller che penso che non solo io in molti davano per per finito e per spacciato e dopo tre anni torna al mondo delle ultra e si porta a casa una un avetario di tutto rispetto in una 105 miglia 105 chilometri con 6900 metri di dislivello il parterre maschile era decoroso devo dire perché comunque il podio lo completano Sebastian Krogwig che abbiamo già visto lo scorso anno su in LUT al secondo posto se non sbaglio chiude il il podio Yonel Christian Manole rumeno anche lui non non ti saprei dire non sono andato a controllare il suo il suo palmarès ma è un nome che ritorna ricorrente in gare comunque di carattore internazionale quindi quantomeno non è che è andato a vincere contro gli sconosciuti del principato d'Andorra ma comunque ha battagliato ha dato un quarto d'ora al secondo quindi ed è arrivato in pieno in pieno stile Zack Miller anche lì urla e correndo veramente gli ultimi 100 metri alla Marcel Jacobs adesso che poi essendo una gara da 105 chilometri presumo che abbia solo il qualificante per CCC 2023 eh potrebbe anche essere e ci potrebbe anche stare per per mille visto che quella l'ha fatta bene UTMB questo sarebbe il suo secondo o terzo comeback possibile il suo secondo comeback forse il suo primo comeback lo lo identifico con con Mute con Madeira Autotrail Zack Miller sai che non me la ricordavo che ci fosse stato a a Madeira avrei ti avrei detto come si chiama JFK di qualche anno fa come comeback Mute non mi ricordo Zack Miller però mentre tu chiacchiererai di altro mi pare mi pare di ricordarlo proprio nella gara che poi alla fine si era lamentato perché si era lamentato diceva che era molto stancante dal punto di vista fisico perché era piena di gradini e anche quella mi pareva fosse la classica gara da per un anno ho avuto problemi fisici sono sparito mi sono fatto i fatti miei in Pennsylvania o dove diavolo abitava ai tempi poi vado per un mese a vivere sull'isola perché anche qua in Andorra comunque c'è rimasto credo un paio di settimane a fare scouting sul percorso e poi vado a vincere per poi sparire completamente però insomma 2016 ha vinto Madeira quindi non era un comeback era ancora sulla cresta dell'onda beh era esatto comunque resta uno dei pochi Miller che effettivamente riescono a correre in questo momento nella diastia dei Miller passiamo alla sottosezione riguardante le gare che preferisco che è quella delle gare lunghe americane che non si fila un cazzo di nessuno se non me, te e qualche pensionato dell'Aidao che va ogni anno e ha senso che nessuno lo caghi assolutamente abbiamo sempre fatto riferimento a una gara per mia missione ne avevo insegnate due e non sono riuscito a scegliere non ho avuto cuore di eliminare una o eliminare l'altra quindi cominciamo a parlare con quella che secondo me è meno interessante ma meglio posizionata all'interno del calendario e parliamo di Big Horn 100 100 miglia storica dico ben posizionata all'interno del calendario perché è la settimana prima di Western è un'altra di quelle gare che mi ricordo parlando anni fa con Brian diceva se devi andare a vedere Western States e non sei stato estratto se vuoi venire negli Stati Uniti vai a fare Big Horn è la settimana prima e poi vai a vederti con tutta calma Western States posti splendidi gara molto ben organizzata dico subito i risultati tanto sono ininfluenti per chiunque anche per i loro parenti penso primo posto per Shane Rominger in 21 ore e 35 primo posto per Amanda Sullivan 24 e 25 tra l'altro Amanda Sullivan è uno di quei nomi talmente comuni americani che potrebbe essere veramente che ti dicessi Marco Rossi ha vinto non lo so il trade del cinghiale e tu dici ah madonna Marco Rossi no l'altro Marco Rossi questo è nato nell'87 tu quello che hai in mente è quello dell'82 ecco questo probabilmente è tipo Amanda Sullivan del Wyoming non è quella di Pennsylvania bene esatto gara appunto che si svolge nel Wyoming una delle cose che ricordo di questa gara è il racconto che aveva fatto Meltzer perché comunque all'interno del regolamento dicono che è possibile trovare wildlife quindi animali selvatici lungo il percorso ovviamente dato che siamo in America e la stessa cosa varrebbe anche per l'Australia non parliamo di wildlife normale di quella che potremmo pensare anche noi tipo ah ho incontrato la mucca e lì si parla di alci e quindi Meltzer aveva raccontato che quella volta che ovviamente era primo nel corso della gara Meltzer grande ultramaratoneta forse uno di quelli che ha vinto più gara da 100 maratone al mondo o comunque quelli che almeno te lo dice che ne ha vinte un sacco anche grande cherry picker era in testa Bigorn ha incontrato lungo il percorso un alce e credo per un po' di minuti ha giocato a nascondino con l'alce dietro agli alberi perché l'alce lo stava caricando e quindi lui stava tentando di scappare mi sono segnato due cose molto belle intanto la fibbia di Bigorn è molto bella cosa che per me è assolutamente importante sono esteta delle fibbie e è brutto a dire scelgo anche le gare in base alle fibbie Ale ma perché sei andato a correre una gara in Inghilterra esattamente perché era in Inghilterra mettere un piede nella porta mettiamola così il premio per il primo è letteralmente un sasso sopra cui c'è scritto primo arrivato Bigorn con l'anno un sasso grosso è una di quelle cose che secondo me è anche difficile da mettere in valigia se siete veloci non andate a fare Bigorn perché poi ve lo dovete portare in Italia il record è di Andrew Miller del 2015 Andrew che abbiamo appena nominato come uno dei Miller che non è mai più ritornato alle gare quando ho letto 2015 mi sono un po' stupito ho detto cazzo 2015 sono sette anni fa quanti anni ha Andrew Miller Andrew Miller ha quest'anno 26 anni Andrew Miller aveva 19 anni quando ha vinto e ha fatto il record a Bigorn e aveva 20 anni quando ha vinto e non ha fatto il record a Western States seconda gara delle gare vintage e qua parliamo di veramente vintage gara che probabilmente è molto meno bella di Bigorn ma sicuramente più storica meglio organizzata e è un po' in contrasto con quella che è Western States parliamo di Old Dominion 100 seconda gara più vecchia seconda 100 miglia più vecchia negli Stati Uniti ovviamente sappiamo qual è la prima giunta alla 42esima edizione si svolge in North Virginia bene o male zona Shenandoah River se avete già sentito questo il nome di questo fiume è perché un tale di nome John Devern cantava in Take Me Home Country Road lì però parlavo di West Virginia quindi il fiume deve essere eccessivamente lungo 14.000 piedi di dislivello parliamo di più o meno 4.000 metri di dislivello 4.200 cosa importante fa parte dello slam delle ultramaratone americane perché lo dico è una cosa importante che forse non tutti conoscono questo ultra questo grande slam dell'ultra è composto da Old Dominion Western States Vermont 100 Leadville 100 e Wasatch Front 100 per partecipare al grande slam chi vuole farlo l'atleta ha bisogno di completare almeno 3 delle prime 4 che ho nominato ovviamente perché 3 delle prime 4 perché entrare a western non è così banale quindi in realtà deve completare 3 tra Old Dominion Western States Vermont 100 e Leadville a questo punto per completare veramente lo slam deve andare a correre nello stesso anno Wasatch Front 100 e può ambire al premio finale il vincitore dello slam ovviamente per tempi sommati del grande slam americano è va a vincere una testa di aquile in bronzo che è spettacolare enorme forse l'avrete vista forse no l'ultimo vincitore famoso tra virgolette è stato Greenius ha mancato di pochissimo il record dello slam lui è stato in America per 5 mesi proprio per completare lo slam ha mancato di poco il record che appartiene a Ian Sharman perché a Leadville è detonato malissimo ha fatto veramente una brutta giornata l'altitudine non l'ha aiutato segnalo la fibbia di Old Dominion è veramente brutta quindi se dovete andare a fare una gara non scegliete anche Old Dominion anche Old Dominion mi ha detto non è bellissima non importa se c'è questa cosa da take me home country roads eccetera questi paesaggi mistici della della North Virginia i vincitori di quest'anno sono Chad Lasseter parente di di Lasseter quello di della Pixar no ovviamente no perché ha una S in meno e Caitlin Kazik 18 ore per uno 21 per l'altra cos'altro a dire recenti non recenti all'interno del record e poi smetto di parlare di Old Dominion perché secondo me veramente interessa solo a me all'interno del grande slam dei dell'ultra maratona americana troviamo anche il nome ovviamente di Scott Jurek Ian Trayson Ian Torrens Paul Terranova un altro che secondo me ha un cognome fantastico Ricky Gates Chrissy Moll e Darcy Africa che ora conoscete come Darcy PCU più famosa perché partecipa credo ogni anno a Hard Rock e va bene o male quasi sempre a vincerlo e ha il cognome impronunciabile passiamo a una gara che menzioniamo non per poco rispetto ma solitamente fuori dal nostro rada che è Shenich Trail che si svolge nella parte sud della Svizzera zona Lugano infatti la partenza e il cuore della gara è Capriasca appunto ci soffermiamo su Shenich Trail 119 km in quanto i coniugi Stanley sono andati a percorrerla a correrla e a vincerla pur iscrivendosi praticamente il giorno prima perché sia Sabrina Stanley che Avery Collins erano iscritti a Marathon de Montblanc 90 km che è stata cancellata per mal tempo quindi trovandosi trovandosi in zona hanno cominciato a buttare su storie su Instagram chiedendo se avrebbero potuto fare in zona l'avevo vista proprio nel weekend di LUT a a proposito Marathon de Montblanc altra gara che casca in quel periodo e anche Shenich Trail direi che lo switch è andato decisamente a buon fine in quanto entrambi appunto si portano a casa la vittoria Avery in 16 e 14 Sabrina Stalle in 18 e 43 quindi kudos per la coppia che se ne torna in Colorado avendo quantomeno preso contatto e confidenza con non tanto i terreni di Chamonix ma comunque avrebbero corso su parte della valle di Chamonix che non interessa il percorso di UTMB che andranno a affrontare quest'anno ma quantomeno hanno preso contatto e confidenza con le Alpi rimanendo sempre in terra coloradina menzione per una gara che anche questa non è proprio nei nostri radar soliti che è la Sun 1 Solstice 50 mile che si svolge ovviamente nelle montagne di San Juan quindi anche lì siamo zona Durango e Silverton casa dei summenzionati coniugi Stanley ci soffermiamo due secondi proprio sulla gara femminile perché è quella che ha rivelato più interesse in quanto la vincitrice che è Anna Olgood ora Osowski evidentemente ha sposato tal Osowski ho avuto un po' di confusione quando cercavo oggi poi ho trovato sul suo preferito personale in cui c'era scritto Anna Osowski fu Olgood che avevamo già visto a gorgio waterswall quest'anno 100k portarsela a casa si porta a casa anche questa 50 miglia con il secondo miglior tempo di sempre dopo il tempo da Walter che è di casa in zona che nel 2021 aveva stampato un 9 e 11 sulla distanza secondo posto per Claire Gallagher anche lei di zona terzo terzo posto per Hilary Allen e onestamente per quanto io conosca appunto chi è di zona chi meno Hilary Allen non ho mai capito onestamente di che zona sia nel senso che ha bivaccato per un po' di tempo in zona Boulder quindi sempre Colorado e ora se la gira un po' in pinarello e o sul van perché va di moda soprattutto negli Stati Uniti spostarsi in van quindi avevamo ci faceva piacere appunto menzionare anche anche questa gara visto che appunto la partecipazione femminile è stata di assoluto riguardo e rispetto hashtag van life prima di finire e concludere con le ultime due gare una una breve news fuori qui sta venendo giù l'impossibile sta tuonando quindi spero che il mio microfono effettivamente riesca a far sentire la mia voce non le botte che sta tirando giù però la cosa ah ecco perché i flash pensavo fosse discoteca finalmente è arrivata no finalmente è arrivata la bigos a casa di ale invece no no sta tirando giù delle mine clamorose quindi a un certo punto presumo che in registrazione arriveranno anche i botti se mi vedi cadere dalla sedia perché uno è stato particolarmente forte ok l'hai accennata poco tempo fa brevemente sì l'hai accennata brevemente maraton de bon blanc 90 km è stata annullata e quindi non ne parleremo passiamo alla gara successiva no sto scherzando avrei dovuto lasciare una pausa più lunga e no si è corsa solo la gara breve breve la maratona effettivamente interessante perché comunque dal punto di vista femminile a vincere la stata Sara Alonso che avevamo già visto a Zegama con un finale folle che aveva fatto e dove si era andata a prendersi il terzo posto chiude in 4 ore e 14 minuti secondo posto per Keitlin Fielder dalla Nuova Zelanda e terzo per Dani Moreno statunitense seconda e terza 4 e 20 4 e 21 comunque molto molto attaccata Fabiola Conti anche qua esattamente come a Zegama aveva cominciato molto bene ha chiuso in settima posizione è andata un po' a perdere verso il finale per quanto riguarda la gara maschile assoluto dominatore è stato Jonathan Albon lui conosce molto bene la zona visto anche la vittoria OCC in teoria UK vive in Norvegia che è per assurdo controintuitivo no non è vero in realtà classico posto dove correre in realtà ce n'è da ce n'è da correre secondo posto per Davide Magnini che va a confermare quello di buono che si era visto a Zegama e quindi comunque un suo rientro davvero davvero positivo sulle gare terzo posto per Rui Ueda uno che anche lui gira e si sente sempre il suo nome quindi secondo e terzo divisi anche loro da un minuto quindi gara maschile molto molto tirata anche da quel punto di vista andiamo a chiudere il 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 nostro programma di gare con quello che è stata la gara più importante sul suolo italiano nel weekend di gare a livello mondiale che è la LUT ne abbiamo già parlato anche questo nella nella nostra analisi post gara che abbiamo fatto che abbiamo fatto da Cortina saremo brevi perché qua secondo me c'è veramente meno da dire rispetto a Western States o forse c'era meno ci sono meno narrative non lo so vedete lampa voi per quanto riguarda gli uomini Nemberger è andato a prendersi il record del percorso e ovviamente la vittoria lui che sarebbe dovuto partecipare a Mozart non mi ricordo se ne parlavamo proprio in sul post si è sposato scelta che comunque tu approvi perché avete scelto bene o male lo stesso periodo per farlo però posso dirti che la cosa più figa andate a vedere il suo Instagram è il vestito da sposo che ha avuto cosa che avrei voluto anche tu e ti è stato negato questo ti sono testimoni assolutamente e sarebbe stato un matrimonio spettacolare secondo me spettacolare sì avrei fatto prima di essere cacciato avrei fatto quel classico balletto che fanno in tironi i battitacchi i battitacchi i battipiedi e sarebbe stato bellissimo però pensa se la parte finale del tuo matrimonio al posto di avere la musica di merda che piace ai giovani tutta con musica folk tirolese sarebbe stato clamoroso sì 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 fisarmoniche e iode però ecco era una cosa comunque in cui potete vate essere accunati che era quella del vestirvi uguale al matrimonio sposati entrambi più o meno nello stesso mese o comunque a distanza di poche settimane ed entrambi riuscire a portare a casa il record di LUT invece siete divisi in tutto guarda caso è andata e la cosa meno differente è il tempo di LUT probabilmente secondo posto per quella che è stata un po' la mina vagante anche perché in realtà ci raccontavano le persone che erano anche stesso Tommaso che è stato lungo il percorso durante la notte Schick-Tanz Jean-Marquet Schick-Tanz è stato per larga parte in prima posizione per poi cedere il passo a Annanberger e a Reiter prima di questo andasse a ritirarsi a Rastua mina vagante perché onestamente non se lo aspettava nessuno lui se lo aspettava fortissimo lui ci credeva ci credeva tanto e è andato a prendersi in un secondo posto Avagia ha vinto comunque Swiss Alps 100k 100 km l'anno scorso quindi non una delle gare più facili da interpretare giovane sono curioso di vedere da dove andrà da qui in poi lui sarà alla Cdc se non ricordo male quindi ha già detto che parteciperà alla gara molto molto curioso e voglio vedere cosa riuscirà a portarsi a casa terzo posto una conferma per Jian Shen che va bene o male a confermare quello che di buono avevamo già visto qualche anno fa quando si era posizionato a pochi minuti dietro dietro Tollefson Tollefson che se non ricordo male aveva fatto proprio la discesa da Croda Lago in modalità in seguimento sapeva che Shen era dietro di lui infatti non era arrivato poi dopo dopo tanto sul traguardo direi che Nemberger è il nuovo che avanza nel mondo a livello internazionale del trailer perché 2021 in cui si è mostrato al suo pubblico sia qui che a UTMB che a Madeira nella sua versione autunnale è nato a riconfermarsi con un tempo strabiliante con condizioni sicuramente ottimali ma un po' particolari quantomeno a livello di acqua il tempo ha aiutato cioè il meteo ha aiutato come tempi però tornare da ecco non è andato a Mozart perché causa covid non mi ricordo se l'avessi detto causa covid tornare e arrivare così in spolvero e riuscire a abbattere il proprio record e abbattere il muro delle 12 ore è stata tanta tanta roba e mi spaventa tra virgolette il fatto che da quando abbiamo cominciato a seguirlo a farci caso non ha sbagliato una gara in cui si è presentato per cui nessuno probabilmente puntava sul primo posto a UTMB però portarsi a casa un quinto posto è clamoroso quinto non mi ricordo comunque sì sì avevamo già guardato perché era quinto lui e e sesto pomare no sesto era forse era quarto pomare e sesto l'altro francese no Jean-Claude France forse sì non mi ricordo chi comunque sì secondo me è quinto posto un hamburger adesso vorrei portargli malissimo dicendo secondo me è la possibilità di fare un ottimo UTMB se ha intenzione di correrlo e non non mi stupirai di vederlo più avanti in classifica mettiamola così non sarebbe a questo punto più una sorpresa sì ma anche perché ripeto guardavamo gli split dello scorso anno e credo che si sia ripetuto anche quest'anno la parte un po' più meno corribile ma di salita è quello che in cui lui fa la differenza dove deve sbacchettare e tirar fuori la cattiveria teutonica gli va decisamente gli va decisamente bene assolutamente per quanto riguarda le donne una riconferma che è quella di Mimikotka va a riprendersi il primo posto tempo più veloce leggermente più veloce no l'anno scorso è stata leggermente più veloce di una ventina di secondi ma è arrivata terza l'anno scorso sì 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 nel 2021 secondo posto per Katarzyna Solinska terzo posto per Emily scusami Esther Felhofer gara femminile meno combattuto rispetto a quella maschile tempi un pochettino più allargati Kotka ha preso il controllo della gara abbastanza da subito l'abbiamo vista passare con Gallina non aveva un buon movimento ma va detto che appunto lei raramente ce l'ha è sempre molto molto muscolare nella sua corsa chi l'ha vista poi nella parte finale negli ultimi due chilometri da Mortiza in giù l'ha vista veramente stanca l'ha vista che si guardava dietro e sì la battuta quando l'hanno vista Mortiza che lei era Mortiza esatto però va va a riprendersi va a prendersi scusa la vittoria si riconferma comunque in forma comunque secondo me ha avuto un buon se guardiamo gli ultimi suoi 365 giorni tenendo conto che il suo culmine secondo me di forma fisica l'aveva avuto nel 2018 2018 2019 2017 e per poi avere un crollo proprio a CCC tra l'altro quando si era ritirata alle contamine abbastanza subito in gara e da lì non si era veramente mai più ripresa secondo me ha avuto un ultimo un ultimo anno veramente veramente buono quindi anche lei presumo sarà si ripresenterà UTMB chissà se arriverà UTMB dicendo questa volta ero più preparata ma magari non riuscirà a portare a casa una posizione migliore vai a sapere questo lo scopriremo tra un paio di mesi in realtà secondo me veramente dal punto di vista di LUT non c'è non c'è granché non c'è granché da dire direi sì di andarsi ad ascoltare il podcast presidente di più che altro perché erano veramente considerazioni considerazioni a caldo veramente a distanza di dieci giorni un po' meno mi è rimasto veramente poco attaccato secondo me la gara maschile è stata aveva veramente un parterre molto ampio ma è stata molto poco combattuta anche a Colgallina le abbiamo visti passare tanto sgranati e da lì le posizioni bene o male non sono mai cambiate come al solito si segnalati i vari posizionamenti italiani buoni Cucco e Mastrotto in dodicesima e tredicesima posizione Aynal inossidabile in settima posizione mi pare non me lo sono segnato però è una garanzia però questo botto si sente sicuro in registrazione perfetto quindi in diretta da New Orleans mi pare di sentire stanno facendo concerto fuori però è bello fare una registrazione in cui viene registrato l'unico temporale credo degli ultimi quarant'anni quindi è un evento alla fine parliamo delle gare di luglio passiamo delle gare di luglio direi sì gare di luglio che sono un bel mix di super gare storiche americane grandi classici europei grandi classici italiani e qualche novità anche a livello appunto nazionale quindi avremo sicuramente la sfilza di gare by UTMB quindi abbiamo il trade di Verbi e San Bernard in Svizzera e l'Aiger sempre by UTMB passiamo al di là dell'oceano quindi Silver Rush 50 Mile che è del circuito di Leadville a cui appunto vedremo correttamente probabilmente anticipazione anche se sappiamo che anticipazione mi ha appena mi ha appena mandato whatsapp ci sono appena sveglio la mattina Pike's Peak Cascade Crest Tower Rim Trail Bad Water che è una gara che capiamo poco ma direi che è folcloristica per cui ha senso è talmente assurda che ha il suo fascino mettiamolo così esatto e sicuramente quella su cui verrà catalizzata la nostra attenzione sarà Hard Rock di quest'anno con in grilla di partenza François Daen e Kilian Giornais fra i molti controllate bene il Instagram di Kilian e di Normal perché Kilian sta cercando un pacer per le ultime 10-15 miglia mi fa sorgere due domande a chi cazzo vuoi che scriva mi offro io anche perché chiedono di non avere un passo troppo veloce e dico ma chi cazzo ha un passo troppo veloce dice che bisogna mandare un curriculum o puoi fare la tua candidatura ma non lo so e poi dall'altra dico ma vuoi che stiamo parlando di Kilian non di me che non trova un pacer non ha nessuno a disposizione aveva scritto Dakota Jones che lui non poteva cioè ha ripostato anche lui e che non può esserci diceva lui che era stato strato per Hardrock quindi ha dato il post a qualcun altro e non c'è alla partenza poi altro grande classico altri due grandi classici delle Alpi tra Germania e Austria sono Gloss Klockner e Zugspitz gare super 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 fighe che vi consiglio di andare a fare puntatina in Inghilterra con Lakeland 100 questa è la classica quota britannica di Ale perché io avrei nemmeno menzionata perché non mi interessa ma se non sbaglio è in navigazione esatto non è balisata per cui non è balisata devi conoscere il percorso ma puoi avere puoi avere la traccia non è orientering sì 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 esatto e finiamo con le ultime tre sono gare italiane due grandi classici che sono Trasdavè per quel che riguarda il Vicentino e Gran 3 di Courmayer per quanto riguarda invece la Valle d'Austria e correggimi se sbaglio ma è una prima edizione che è l'Ultrate del Gran Sasso no perché ti confondi con il circuito perché ce ne sono due dove avrebbe partecipato di Graglia di Graglia no no questa è Ultrate del Gran Sasso è non so se alla sicura beh questa sarà sicuramente no 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 è sicuramente il secondo anno non ricordo se va ancora più indietro però è di è di è di un amico del del podcast mettiamola così quindi sì sì quello ricordavo ma pensavo che fosse e poi ho fatto ho disegnato roadbook e mappina quindi l'ho pubblicito così ecco andatevi a prendere la companion guide dell'Ultrate del Gran Sasso tra l'altro i posti sono sono veramente belli perché poi ho visto il direttore gara andare a fare varie ricognizioni quindi è sempre la solita cosa del gare relativamente vicine ma nuove e paesaggi completamente diversi che ogni tanto bisognerebbe anche andare a fare però anche Transavè è un bel è un bel ritorno quindi come direbbero le nonne è inutile guardi al di là dell'oceano quando ci sono così tante cose belle in Italia esattamente e con questo chiudiamo la puntata no però chiudiamo la parte dedicata alle alle gare passate e gare future passiamo alle news sono pochine questo mese è successo gran poco non c'è stato calcio mercato adesso controllo ma no non c'è stato calcio mercato news strane varie partiamo da naked naked come brand probabilmente li conoscerete per via della fascia della belt che praticamente tutti hanno usato a western states se andate a vedere le immagini ci sarà sempre qualcuno con indosso una fascia naked o uno zaino naked tratto zaino naked usato ad esempio da Scott Rye sotto la camicia e onestamente grandissima idea per mantenere il ghiaccio all'interno all'altezza del petto quindi niente a dire naked che è un brand nato anni fa io ho comprato la loro primissima fascia dopo averla vista addosso a un atleta presumo americano a UTMB si parla di 2017 no forse addirittura 2016 preso la fascia fascia che uso ancora tuttora perché per quanto sia un pochettino più picchiata è ancora molto ben è ancora decisamente funzionale è uno dei pochi brand tra l'altro che non usa le taglie small medium large e in bocca al lupo ma usa il girovita cosa che trovo di un'intelligenza totale e anche di una difficoltà importante nella decisione della taglia perché il girovita che hai a dicembre non è lo stesso che hai di solito in giugno ma secondo me è la classica cosa come le camice cioè perdono loro un po' come si dice perde un po' cioè non sei te che ingrassi è la maglia che perde un po' è anche la fascia io noto che è un po' più stretta di quando avevo comprato quindi è quello un po' il difetto del marchio è lavandola si stringe lavandola si stringe no appunto dopo fasce e e zaini hanno deciso di buttarsi sul sul segmento scarpe un prodotto che in parte mi ha ricordato non in sé come scarpa però come concetto mi ha ricordato speedland anche come prezzo mi ha ricordato speedland perché si parla di una scarpa da 290 dollari costa 100 dollari in meno di speedland solo perché è una scarpa senza lacci secondo me tolto il boa 100 dollari in meno sembra più un pattino da pattinaggio è una scarpa un po' particolare suola vibram piastra in carbonio ormai sembra un must dicevamo niente lacci perché segue un po' secondo me la filosofia di quello che è naked cioè ti scegli la tua taglia e ti deve vestire come un guanto cosa che secondo me si applica molto bene a una fascia si applica abbastanza bene a uno zaino si applica molto male a una scarpa però anche perché loro dicono è una scarpa specializzata per ambienti tecnici e io ho nella mia mente il jacquard delle speedgot che fa scivolare il piede all'interno della scarpa però a parte questo una cosa interessante che hanno applicato all'interno della scarpa ci sono delle strisce di stopper di solito è il classico gommino mettiamola così che serva a non far muovere il piede è una cosa che usano anche all'interno degli zaini della fascia è una cosa che funziona molto bene non so se può funzionare all'interno di una scarpa con la calza con il caldo il bagnato eccetera l'hanno solo annunciata poche persone l'hanno provata a un certo punto probabilmente chiederemo a Tommy di farci una una review un pochettino più dettagliata però ecco è una cosa strana che viene che verrà fatta che uscirà anche questa in autunno news di tutt'altro carattere invece è quello che riguarda un tentativo riuscito di FKT di Annouille Rousset sul GR20 in Corsica percorso iconico e famosissimo come tanti dei GR francesi però quello della Corsica è balzato agli onori della cronaca nel momento in cui Kylian Jornet mi parla 2009-2010 avesse deciso di conquistare il record del percorso portando a termine e riuscendo nel suo tentativo la Rousset si porta a casa i 160 chilometri con 12.000 metri di ziberlo in un giorno 11 ore 50 minuti il che ben rappresenta il fatto che sia veramente di una tecnicità e di una complessità notevole se andate a guardare sul sito di Fast and Snow Time trovate solo la categoria supported penso che la support sia impraticabile e impossibile se già ci vogliono 35 ore per farlo supported non mi immagino quale possa essere il risultato senza portarsi nulla anche perché Corsica non è proprio dici Corsica non dici Fiumi a go go anzi e soprattutto in una stagione come questa record abbassato di ben 6 ore quindi tentativo riuscito in maniera egregia la Rousset è atleta Scott diciamo che è più l'FKT a livello maschile che appunto è stato più interessante o che comunque è stato più la curiosità di noi appassionati di trail running ora come ora pensavo che Daen avesse ancora il record mentre è tal Santelli o Santelli francese si sa mai non so se siano corsi o francesi ed è meglio non abbinare corsi alla Francia quindi manteniamoci su francese Santelli Daen ha il secondo miglior tempo Peretti o Peretti per l'appunto il terzo e Kilian il quarto ma appunto parliamo di 10-12 anni fa sì io ero convinto che Giornet l'avesse fatto tipo 5-6 anni fa e sono andato a vedere 13 anni fa la cosa mi è un po' stupito ma ci sta secondo me era in quella fase di Kilian dove lui provava era la prima fase il pre-summit of my life cioè vado a prendere quando ha fatto il giro del lago di Tao eccetera 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 quindi sì 2009 ha assolutamente senso anche perché poi 2010 ha fatto la sua prima prima western quindi news molto breve perché non verrà non daremo altre parole a riguardo è stato presentato un nuovo sponsor di UTMB World quindi di tutte le gare che fanno parte del circuito UTMB ed è Camelback è una riconferma alla fine è stato sponsor anche degli ultimi anni presumo ci abbiano impiegato quei 2, 3, 4, 12 mesi in più per riuscire a chiudere il contratto perché UTMB è passata da ci devi dare 10 a ci devi dare 100 però Camelback ha detto ok ci sono e quindi anche quest'anno le fontane d'acqua di UTMB saranno sponsorizzate Camelback e probabilmente i giornalisti riusciranno ad avere una borraccia allo stand se hanno abbastanza pazienza per ascoltare la storia dell'orso spero che sono solo francesi quelli di Camelback quindi in realtà spero non ascoltino questo podcast mezzi francesi non importa vi voglio bene Camelback ci vediamo a Chamonix tra due mesi si io in Chamonix concludiamo l'angolo delle news ritornando oltreoceano per parlare di una gara anche questa abbastanza storica perché comunque c'è passato chiunque quantomeno a livello maschile sono andato poi a vedere i tempi overall femminili e non c'erano atleti di atlete che mi sono balzate agli occhi parliamo di San Diego 100 che parte da Lake Kuyamaka che è nell'entroterra di San Diego quindi parliamo di Bassa California non Baca California che è già Messico ma Bassa California al confine col Messico gara storica perché appunto ci sono passati The Cherry Picker Carl Meltzer Jeff Browning che è il secondo nella classifica di Cherry Picker Zach Bitter l'ex compagno di Rihanna Bob Chris Brown Bob Chebest secondo me a un certo punto la gente è smettata di ascoltarci per queste cose però noi continuiamo questo si chiama con la K Chris Brown e non CH per finire con Dylan Bowman che era credo una delle prime apparizioni non vorrei sbagliarmi potrebbe essere stata anche una delle sue prime 100 miglia si svolge appunto nell'entroterra di San Diego paesaggio tra l'alto deserto e un ciccinin di montagna caruccio devo dire la verità siccome avrei voluto sceglierla nel mio tentativo di fare una 100 miglia che poi è andato a farsi fottere hanno un bellissimo angolo shopping cioè c'è qualsiasi cosa con il simbolo di San Diego dalla tazza al frisbee alla t-shirt ed ero tentato di sceglierlo solo perché avrei speso penso 500 dollari portando a casa la qualunque avessi dovuto finirla beh andavo anche a lavorare in banca con qualunque cosa di San Diego 100 la curiosità la cosa interessante è che il vincitore è l'immortale Roberto Romero che all'età che quasi alla soglia dei 60 anni si porta a casa la vittoria in 19 ore e 19 Roberto Romero non credo sia mai uscito dai confini della California non so se abbia un ordine restrittivo di non uscire dai confini però doveste iscrivervi a qualche gara in California che sia San Diego 100 Angeles Crest in cui è local legend anche su Strava o Sean O'Brien qualunque cosa e c'è Roberto Romero calcolate già dal secondo posto in poi perché non ne sbaglia una ed è fighissimo tutto il suo team che ha la classica t-shirt in cotone grigio con scritto team Romero grandioso numeri uno veri lui appunto parlando di Angeles Crest l'unica curiosità che mi ero segnato è ha partecipato ad Angeles Crest 11 volte è stato 11 volte in top 10 ha vinto due volte ed è stato sette volte sul podio un signore è impressionante sì 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 e non si può dire che non conoscesse no no assolutamente anzi assolutamente chiusa anche per questo mese la parentesi delle poche news relative a giugno è tempo di collegarci direttamente dagli studi mobili di Costa Bissara per dare la parola a Tommaso Bassa che ci parla di una cosa un po' differente questo mese non parliamo di forse una scarpa specifica o perlomeno non parliamo penso non parleremo di una scarpa che ha ancora un nome forse sì insomma state ad ascoltare ho fatto questa intro così la gente dice ma di cosa parlerà Tommaso adesso mi tocca ascoltare non devo non salto a mi sembra che Tommaso non parlerà di scarte esatto e invece e invece parlerà di scarte esatto ciao ragazzi grazie voi anche oggi e allora memory di un bellissimo 2017 in cui Western States aveva fatto un bellissimo survey su tutti i materiali utilizzati dagli atleti c'erano stati dietro con un'associazione filo organizzazione gara che aveva organizzato questo enorme survey su monitorando le lampade frontali l'avviamento i pacer non pacer il tipo di allenamento e chiaramente materiali utilizzati tra tutte le scarpe ho pensato di dare un'occhiata spulciando i video di Lorenzino Mastrotto della Western States per capire un po' cosa avessero utilizzato i nostri eroi visto che c'era qualche bella novità e e non sono rimasto deluso ma mi sono soffermato chiaramente solo sugli elite che vabbè hanno inquadrati nel video e però diciamo che non ha deluso questa cosa perché ho notato il caos più completo nella scelta di strategie di gara da parte dei nostri amiconi oltreoceano per una gara che quest'anno probabilmente come avete già parlato non ha avuto delle temperature peggiori della storia di Western States ma è stata una gara intensa e calda e il palco atleti si è menato per bene fino agli ultimi comunque top 3 degli ultimi 10 anni quindi non male non male e infatti mi sono divertito a cercare di capire perché qualcuno qualche furbone ha cercato di fare una strategia di gara proprio cambiando più volte scarpe che è una cosa che abbiamo già visto ma che onestamente su una gara di corse in cui gli elite se suonano proprio sul minuto pensare che questi atleti cambino calzini e scarpe come ho visto fare più volte nei vari video del coverage mi ha fatto pensare che che magari dietro un disegno c'era quindi parto subito da le cose più interessanti Ludovic Pomerè grande idolo è partito in tectonics ok quindi con la novità di Oca e che onestamente abbiamo visto su ma a forestill nei video già vedo su un paio di Speedbot 5 e ad Auburn è arrivato con un paio di stradali non so se da qualche parte abbia cambiato anche un quarto paio di scarpe però tre paio di scarpe niente male complimenti complimenti tra l'altro nessuna di queste scarpe è riuscito a cambiare il suo modo imbarazzante di correre ma lui non lo sa ed è andato veramente forte quindi bravo come re quindi scarpa con la piastra scarpa da tre semplice scarpa da asfalto veramente basica ecco perché fosse una bella scarpa in realtà la macchina è una scarpa veramente basica ma Oax è quasi secondo me riuscito a farvi meglio perché è partito con la Speed e a forestill è ripartito con delle carbonics quindi con una scarpa da strada stradale in copiata in carbonio infatti li sentiamo spesso dire quando fanno le interviste che quando fanno tutti i passaggi dopo presti cal 1 cal 2 loro parlano sempre di una sezione veramente veloce a scendere probabilmente avranno deciso di mettersi su un paio di scarpe da strada lisce con una bella piastra in carbonio per guadagnare qualcosa non so se due cose e e a Rakicciaki già aveva su un paio di Rincon che sono delle scarpe basiche da strada totalmente lisce con cui è arrivato quindi anche per lui tre belle paio di scarpe ok altre cose interessanti le scarpe stradali non le hanno messe su soli maschi ma le abbiamo viste i piedi anche delle donne perché Ruth Croft ha terminato con un paio di Adios Pro che è una scarpa con piastra in carbonio dei record insomma su strada da maratona e vederle ai piedi e l'arrivo sulla pista di Oberon è stato un segnale che insomma la scarpa con la piastra sta iniziando a entrare sempre di più anche tra le vite non viene vista solo come un dispositivo di marketing per i tapascioni che vogliono andare più veloce o pensare di farlo ma anche la riprendo il nome Katie Asmut aveva su un paio di stradali con piastra sempre Alidas con una un battistrada totalmente assente e le aveva su già come si chiama il passaggio prima di Forest Hill in cui hanno la prima assistenza ancora prima Robinson Flat il cinquantesimo le aveva già su e le abbiamo viste anche all'arrivo quindi probabilmente si è fatta l'intera gara con delle scarpe quindi un bel trend che sta partendo menzione d'onore a Scott Tray che le scarpe non gliele danno e quindi decide che le spirito 5 non vanno bene e corre la gara con le spirito 4 lo chiameremo l'eroe dei due mondi perché conservatore di vista delle scarpe ma innovatore dal punto di vista delle vesti di sport ghiaccio io sono con Scott 100% 98% diciamo interessante mi piaceva solo studiare Tollerson ha optato per una challenger tutta la durata della gara e anche Peter ha usato una spirito 5 tutta la durata della gara anche tante donne a parte la croft che ha fatto sicuramente due cambi di scarpe e ha deciso di terminare quella stradale nota margine Cody Lindberg forse l'unico con dei prototipi a occhio perché vede le Scott nuove indefinibili dalle foto però mi sembra una nuova Scott da ultra insomma qualcosa di un po' più spesso ma poi cercheremo foto più avanti appena rendano qualcosa in più e l'uomo New Balance Viet e pittorale 15 adesso non ricordo credo uno degli ultimi tre atleti al mondo sì bravissimo Vincent Viet settimo assoluto aveva su una New Balance che sembrava un aierro ma un barchista da particolare quindi immagino possa essere anche lì una specie di segno di prototipo o una scarpa modificata apposta per la mano comunque tanto di cappello perché l'ha fatto arrivare in top ten insomma ci ha messo del suo sicuramente ma arriviamo al succo il discorso che volevo arrivare perché abbiamo accennato il discorso scarto per la piastra molto interessante la buona molto interessanti le scelte di Tyler Green e di Allman Giù Allman rispettivamente allora se ricordo bene quarto e quinto sì quarto e quinto assoluto hanno utilizzato una nuova scarpa by Nike che si chiama Rullo di Tamburi Grande Fantasia Ultra Fly ok dopo l'Evapor Fly che è una nota famosissima scarpa da strada che ha aiutato a chi proge nei primi tentativi del sub due ore e l'Alpha Fly che gli ha permesso di fare l'evento avviene in cui ha battuto il muro delle due ore in maratona Ultra Fly pare che sia il primo vero tentativo di Nike di portare la tecnologia della scarpa con la piastra su un trail dico pare perché abbiamo parlato di Zegama giusto il mese scorso che chiaramente non è una scarpa con piastra ma era la prima che montava il materiale ammortizzante delle scarpe da strada ma Ultra Fly la rivoluzione di Ultra Fly è che è una scarpa 100% racing invece di Zegama stiamo partendo adesso tra gli ultimi contenuti che è una scarpa d'allenamento per tutti e anche gara per qualcuna questa Ultra Fly è diventata subito oggetto di discussione perché allora si presenta benissimo tra l'altro venendola ai piedi di Tyler Green si vede proprio che ha un bel profilo alto quindi ha tutti gli effetti una bella scarpa da Ultra sembra molto morbida e pare leggerlo su forum che si erano riusciti a incapsulare lo zoom mix di cui parlavamo tutto il mese scorso in un film veramente leggero quindi la scarpa non ha modificato le sue proprietà elastiche è rimasta una scarpa veramente reattiva la piastra in carbonio è completa all'interno mi lascia un po' perplessa la Tomaya che è ispirata alla Vaporwave è un brevetto di like è ispirata da alcune stradali che hanno fatto successo ma che non brillano per tenuta del piede particolare cioè molto libera ha un trattamento ripstop che quindi fa scivolare via l'acqua non è impermeabile quindi secondo me Tyler Green si è bolliti infatti è arrivato con l'elte gamma Drew Holman ha avuto il buon cuore di arrivare con le stesse scatte quindi è partita comunque bella bella novità onestamente la vedo come una scatta performance probabilmente visto che Nike fa le cose fatte bene sarà veramente divertente parlano di primavera 2023 per la distribuzione quindi c'è da affrontare ma è veramente un prodotto interessante ed è il concetto di chi si è inventato la scatta con la piastra funzionale quindi immagino che avranno fatto le cose fatte bene chissà se anche sul comparto suola saranno riusciti a smentire anni e anni di brutte recensioni ma non mi aspetto niente dalle poche foto che ho visto circolare sembrava veramente tassellatura minimissima fatta proprio per batti cioè per sentieri zero tecnici molto molto da correre molto da western mi ricordo male o appunto parlavamo già delle scarpe usate da Tyler Green l'anno scorso proprio per western che erano questi prototipi un po' strani è possibile che fossero molto alte sì esatto adesso che le ho viste e mi sono confrontato le foto dell'anno scorso anche quelle di PS stessa le foto del prodotto di quest'anno ho proprio visto che il disegno è quello sembravano più bifi l'anno scorso più spesse quest'anno invece dalle foto sembravano in realtà basse sembravano quasi delle Pegasus Trail vecchie in realtà viste a western ho capito che è una scarpa alta non ho nessun dato di stacchi da terra di drop però il bello è che vedere finalmente la tecnologia stradale che arriva al 100% su trail fa me sperare perché vuol dire che hanno trovato la quadra dico fa me sperare perché l'abbiamo visto utilizzata effettivamente in una gara dove hanno fatto dei biazzamenti sicuramente la scarpa ha funzionato vedremo poi tra un anno quando escono cosa ci riservano parlano anche di un compound completamente rivisto per la sola però vediamo secondo me no sì anche perché più che altro è stata la loro dichiarazione se non ricordo male per abbastanza tutte le scarpe che hanno fatto uscire ultimamente quindi l'unica similitudine che esiste al momento c'è la tecnologia simile già uscita Saucony come scarpa con piastra con queste caratteristiche diciamo rifinite però sta uscendo adesso vediamo sulle pd di qualche atleta e vedremo come funziona si chiama Endorphine Edge si riconoscerà sui sentieri perché è di un rosa terribile tutto è totalmente rosa 100% rosa e vedremo l'abbiamo vista Gorgi Waterfall mi pare che è il secondo il terzo è il primo utilizzo vero che è uscito sui social e vediamo se si farà nella guerra o se questa avrà la solita spanna sui propri Nike che è sempre avuto sui breve nessuno invece ha adottato la strategia Placer Eye di cambiare le scarpe con scarpette da pista per fare gli ultimi 200 metri forse il peggiore che mi sono segnato no 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 mi ero segnato anzi c'è stato qualcuno che si è tolto mi ero segnato si è tolto le scarpe immediatamente dopo l'arrivo forse la Obud no è Taylor Green Taylor scusami Taylor Green si è tolto da sdraiato se le è fatte togliere da Dylan Bowman e da Corinne Malcolm esatto quindi secondo me il male che mentre Drew Holman no scusami mentre Arlen Glick che non ricordo con cosa corre ha lanciato le scarpe mentre faceva l'intervista no io no sinceramente non l'ho guardato perché lui non è sponsorizzato non è brand non è ancora non l'ho cercato onestamente no mi sono goduto il lancio di borracce di Vitox esatto mi è carassato con le borracce quello è stato uno spike notevole alla Gronkowski roba di football però è stato veramente uno spike notevole e foto secondo me non dell'anno ma foto che da usare assolutamente nei social quindi gran foto per quella come tutti gli atleti che ora possiamo sovrapporre all'alba e ai tramonti esattamente in ogni foto credo miglior idea di marketing della storia nel senso sono stati graziati dal meteo però le foto in cima all'escarpment con quella divisa erano la perfezione i colori erano perfetti e tra l'altro c'è anche una foto di Camilla Aaron che ha i capelli al vento con tutta la luce del sole dietro fantastico anche perché lei aveva anche i manicotti secondo me le divise donna erano molto più belle delle divise uomo però di primo impatto fa un po' cagare la divisa adesso la amo secondo me è una di quelle cose che è figa se ce l'ha uno che va anche forte esatto me la metto addosso io e la gente dice ma come cazzo è vestito quello ma come ti vesti penso che avrei dato invece a a Aizen che in Salomon non si può vedere è vero è verissimo non so se è una questione di abitudine per averlo visto Oka per dieci anni ormai qualcosa meno però si è è onestamente brutto non è brutto da vedere è sbagliato ti rendi conto che c'è qualcosa che non va assolutamente e anche lui se ne è reso conto tra l'altro infatti dopo 85 miglia ha detto non ce la faccio più qualcuno mi porti un completo Oka finisco la gara così e non glielo hanno portato ecco quindi direi che come analisi chiaramente di che però è tutto e non vi tedio con recensioni questo mese attendiamo le richieste devo ricordarmi di risponsorizzare il form dove la gente può richiedere review specifiche è sempre online è sempre aperto forse agosto non è il mese migliore per uscita di nuovi modelli di scarpe presumo che adesso il grosso sarà settembre ottobre ottobre mi pare sia le grosse uscite la possibile data di uscita di normal ma in realtà la full winter nei negozi parte proprio dall'agosto quindi quando ti dicono che la scarpa arriva nei negozi come novità a full winter ad agosto probabilmente a volte non arriva se non è agosto o settembre come persona che lavora in un negozio quanto sono contenti i negozianti di avere una scarpa da uomo completamente rosa da vendere allora Saucony Endorphin Edge è proprio una scarpa in lancio adesso a full winter non vediamo l'arrivare in negozio però sarà quella scarpa che smadoni per riuscire a vendere come quando la catamount è uscita esattamente scarpa clamorosa ma che ha fatto una gran fatica perché era bianca e azzurra poi mio parere assolutamente spassionato e sincero i colori successivi alla bianca e azzurra erano terribili però è scarpa rosa è scarpa da cambiare ammortisa poco prima di arrivare secondo me se tu guardasi e lì è figurone lì è figurone sulla gorge waterfall il recap tra l'altro sto aspettando quello di western spero lo faccia sono quasi a fare check su youtube stavano seguendo un atleta che ci ha impiegato un po' credo abbiano un sacco di footage penso che la serie arriverà fra un po' di anni si comunque se guardate quello di gorge waterfall fate un'idea della vista scarpa di Sauconi bellissima quella arriva adesso e poi visto che doveva arrivare a maggio ma arriva quindi si fa prolungata arriva anche la caldera 6 adesso per le scarpe dall'ultra mattezzata all'ultra da Schittas il pazzo curioso svizzero che è la seconda è stato il suo primo vero utilizzo che ha portato un podio secondo me ricordo bene quella caldera cioè quello specifico modello di caldera che è altissimo non è il primo paio di scarpe che mi viene in mente quando penso devo andare a fare una loot però probabilmente sono io a sbagliare visto i risultati con me l'è andata veramente la sera prima quando hanno fatto il venerdì hanno fatto la giornata con test serale con i commercianti con i giornalisti lui era lì e gli ha detto la prova perfetto ma anche perché sono convinto lui tra l'altro era praticamente senza sponsor fino a pochissimo tempo fa magari l'hanno firmato giuro che secondo me gli hanno pressato i loghi a cima banche gli hanno pressato i loghi veramente a ospitale perché l'hanno visto passare senza niente erano degli adesivi lui è un pazzo scatenato si è vista una notte da solo correre tutto il tempo da solo a misurina a misurina veramente pazzo pazzo e già che ci siamo andatevi a vedere il suo sito è un uomo man on a mission prendetevi degli occhiali perché leggere il testo sulla foto senza nessun tipo di contrasto sarà difficile però proprio il suo statement io ho appena cominciato a correre il mio il mio scopo è quello di vincere WTMB bene nel 2017 qualcuno da Scott Jurek era partito così a Western pensa se è il 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 pieterman di Oaks è chic dance per Walmsley questa cosa non so se è un discorso complesso però pensa se il uno come Walmsley che adesso ci prova per sono anni che ci prova e salta fuori questo chic dance e va a vincersi WTMB al primo tentativo e io vedo che rompe i bastoncini che gli ha dato Pansone esattamente di Benedetti dal Beaufort urlando mon dieu e torna Flex aspettacolo vedremo vedremo direi che anche per questo mese ci siamo Tommaso grazie mille se arriveranno richieste per recensioni te le farò avere magari il giorno prima vediamo un po' cosa si può fare esatto e nel frattempo grazie alla prossima grazie mille a voi ciao ragazzi grazie Tommy per l'angolo del video del mese noi siamo come sempre esterofili e soprattutto americanofili quindi anche per questo mese abbiamo scelto no questo mese abbiamo deciso di affidarsi ai cineasti i cineoperatori di casa nostra per cui parliamo del video del Billy Young del Vicentino Lorenzo a.k.a. Lorenzino Mastrotto che è sempre presente quando il nipote Roberto corre e con una velocità allucinante riesce a gestire produzione e post produzione del video e a tirarlo fuori nella settimana immediatamente seguente alla gara direi di cioè che è figo vederlo perché è uno spaccato vero e proprio della gara per quanto comunque ovviamente lui segua il nipote e parliamo di un atleta elite però è presente in quasi tutti io credo le aid station i punti di ristoro quindi se uno dovesse almeno io ho fatto così se uno dovesse avere intenzione di fare la lutte e di capire bene o male dove si passa si prende il video di Lorenzo Mastrotto e si vede dall'inizio alla fine qualunque cosa poi i grandi picchi si raggiungono nel momento in cui c'è l'incitamento ormai diventato famoso in tutta la community italiana che è Vairobi per cui sono già più di un motivo che vi abbiamo dato per guardarlo è una sintesi in un quarto d'ora 20 minuti di quello che può essere una gara da 120 km e nel particolare la luta tanto ora che fai lottare l'effettiva velocità di produzione dei suoi video dici che dovrei fargli produrre il podcast gli passiamo tutto l'audio e poi ci pensa lui secondo me andrebbe è sempre sempre veloce e devo essere sincero riuscire a essere all'interno di uno dei suoi video per me è sempre un grande onore mi è capitato un anno con l'accento e lode perché ho cominciato un filo troppo veloce non ero ovviamente con Roberto ma ero una decina di posizioni dietro e mi è capitato ci è capitato quest'anno dove comunque facciamo parte del gruppo tifo di Colgallina per cui lui era lì quando è arrivato il suo atleta di riferimento quindi no poi è bello onestamente anche il fatto che comunque segue tutti dal primo a dal primo a quando arriva Roberto quindi esatto conoscendoli tutti e soltandoli tutti per nome praticamente figura ormai iconica del trail italiano per quanto mi riguarda passiamo ai vincitori del mese premessa forse questa è la prima volta in dieci undici puntate dieci puntate di The Long Run per cui sinceramente senza confrontarci saremmo andati entrambi verso un unico vincitore del mese e questo vincitore si chiama Adam e di cognome fa Peterman abbiamo deciso di evitare di avere la grafica con entrambi Adam Peterman e Adam Peterman anche sarebbe stato onestamente interessante probabilmente anzi sai cosa la faccio lo stesso usiamo due foto diverse c'è Adam Peterman sotto e Quagmire sotto esatto la faccio lo stesso ma abbiamo deciso di scegliere un un vincitore del mese di riserva parto io il mio vincitore del mese è Arlen Glick atleta di Massillon Ohio 29 anni la cosa che più amo di lui è che non ha nessun passato da corridore a scuola non è non ha fatto i 400 ostacoli non ha fatto track and field non ha fatto i cross country non ha fatto niente a scuola ha cominciato a correre come tutte le persone dopo scuola dicendo prima faccio 5 ma sì dai perché non fare 10 magari faccio la maratona magari faccio questo magari faccio quest'altro ha scoperto del 100 miglia si è innamorato totalmente da distanza tanto che praticamente ormai da 3-4 anni non fa che quelle potenzialmente può essere avremmo potuto considerarlo un cherry picker nel caso abbiamo nominato questa parola questo modo di dire cherry picker più volte nella puntata e anche nelle puntate precedenti nel caso qualcuno non si fosse preso la briga di andare a cercare su google cos'è un cherry picker è uno che sceglie mettiamolo così per dirlo in un altro modo in inglese che è low hanging fruit cioè i frutti che sono più bassi più vicini e più facili da prendere quindi le gare un po' più facili da vincere in questo caso chi c'è in partenza nessuno ah allora vengo in realtà lui ha tantissime gare vinte negli ultimi tre anni giusto per fare un esempio Canal Corridor due volte Tuscasar 100 famosissima strano che non sia uscita un cherry picker Amstead 100 due volte Mohican 100 Burning River 100 e Avelina Avelina non è cherry picking però in realtà tutte le gare che ho nominato prima sono in Ohio lui è un po' il local hero dell'Ohio però è local hero ma ti va anche a fare un terzo posto a Western States mettendosi in mostra in una gara comunque molto combattuta con due persone che hanno fatto una gara incredibile davanti a lui con una persona subito dietro di lui che è stato capace di arrivare secondo l'anno scorso per me perde il titolo sia da cherry picking da cherry picker che da local hero quindi io io lo vedo come uno che veramente corre forte predilige ovviamente gare molto corribili in Ohio si corre non c'è tanto da scalare e overall il good guy come dicevo prima ne hanno parlato benissimo Iden Hawks ne ha parlato benissimo a Peterman è fantastica la sua intervista su Iron Far molto solare ha rischiato di tirar giù il cartellone dei tempi a Western dando una manata un filo troppo entusiasta al tabellone niente per me assoluto vincitore del mese assoluto relativo vincitore del mese dietro l'assoluto no label esattamente esattamente quindi se qualcuno ha l'ascolto e ha dei soldi da investire c'è un ragazzo Arlen Glick che potrebbe sicuramente fare al caso il mostro perché sicuramente il mercato di chi ascolta se dovesse avere un'azienda di riferimento al mercato di riferimento è l'Ohio dice Ohio dice anche tra l'altro bei paesaggi quindi capisco perché non esce mai dalla storia però per dire dici Ohio a me viene in mente Akron mi viene in mente Lebron James mi viene in mente Nike mi viene in mente Nike e chi piace a cui piacciono questi atleti pseudo giovani che accettano poche noccioline per correre qualunque esatto perché no vediamo dove finirà la mia scelta invece del mese è molto più semplice e scontata quindi il primo posto maschile non potevamo scegliere perché era troppo banale quindi la scelta molto più originale è stata prendere il primo posto femminile Ruth Croft e devo dire la sua tenuta di gara mi ha un po' sorpreso nel senso che siccome era data già tra le favorite dalle più grandi tra virgolette testate parlo di Bacol per esempio mi sarei aspettato una leading dall'inizio alla fine invece con calma è sempre rimasta comunque a metà della top ten e pian piano ha scalato le marce visto appunto che non era il suo esordio ma era un ritorno una seconda volta sulla distanza essersi portata a casa nel giro di due anni un secondo un primo posto la metti di sicuro nell'olimpo attuale di chi sa menare soprattutto dove bisogna spingere dove bisogna correre di più vedremo adesso come conclude l'anno perché non ne ho la più parida idea se l'intenzione sia quella di partecipare a CCC l'anno scorso non ci ha partecipato se è in forma secondo me e dovesse decide di partecipare non credo che abbia molte avversari sulla distanza non penso che la sua intenzione sia quella di fare UTMB ma arriverà sicuramente un tweet fra due secondi o tu me lo dirai non vorrei sbagliarmi ma ecco questo mi stupirebbe molto perché non non lo so l'ho sempre vista a suo agio in terreni molto più molto più corribile molto più veloci UTMB sarebbe un po' pisciare fuori dal vaso ma ripeto è una mia banale considerazione visto che si era comportata tanto bene a CCC fossi lei ritornerei a CCC ma non sono il suo manager non sono nessuno quindi Ruth sei nei nostri cuori fa quello che devi noi saremo sempre al tuo fianco ha detto anche che non le interessa probabilmente tornare a Western ha detto che ha fatto il suo si è divertita e beh in questo momento l'ha detto il giorno dopo della gara quindi insomma no no ma ci sta hai fatto un secondo un primo ha detto ci sono un sacco di gare da fare lei tra l'altro è sempre in giro con il suo compagno che è Martin Gafuri per una volta mi sono ricordato il suo nome dico sempre che è lo speaker di UTMB che le ha fatto anche da Pacer tra l'altro per la parte finale della gara e siamo arrivati all'angolo della birra quindi io stacco il mio microfono prima dico cose e stappi una birra esatto siamo arrivati alla alla parte finale avviso già che abbiamo ricevuto molte birre ma questo non ci non deve fermare chiunque dal continuare a voler rifornire il nostro magazzino anche perché l'estate è torrida e la voglia di bere soprattutto dopo essere entrato nel mio vestito del matrimonio è ancora più grande quindi adesso è l'ora di sfonarme sul serio avevamo un po' di arretrati quindi partiamo da una birra gentilmente offerta da Davide Dinosio che è la Too Late è solo il nome è lo stile ci spostiamo un po' dalle IPA perché questa è una Imperial IPA se l'IPA è lupolata un po' amaricante resinosa grumata e tutto Imperial vuol dire che lo è all'ennesima potenza quindi non dovessero piacervi le IPA queste non piaceranno di sicuro è da un certo punto di vista una birra rinfrescante dall'altra comunque sono 9 gradi e mezzo quindi è una bella stecca non andrei a verne 4-5 di fila il birrificio è Brew Fist di Codogno nell'Odigiano io credo uno dei birrifici più grossi in Italia o comunque un esperimento che è nato non da tantissimo perché è del 2010 però sono molto molto grossi fanno un sacco di birre perché hanno sia le classiche quelle stagionali che le collaborazioni per cui non vanno cioè escono di produzione e quindi chi le ha bevute le ha bevute consiglio di assaggiare perché fanno veramente un casino di birre super buone partite da questa se siete amanti della grumata e del lupolato altrimenti fate un percorso di avvicinamento come se doveste preparare una 100 miglia per poi arrivare a sollevare i 9 gradi e mezzo della Too Late e quindi grazie Davide e continuate 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 a spedire e passerà in sovraimpressione o sottofondo del podcast il nostro indirizzo dove mandare birre e c'è una casella postale dovremmo aprirla è anche una mail birre at buckle podcast grazie grazie dell'invio un cheers a Davide direi che con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio come per tutti gli altri pensavamo saremmo andati molto corti perché non c'era così tanta roba di cui parlare e temo che in realtà siamo andati lunghi uguali esattamente come nei mesi precedenti prima di chiudere definitivamente facciamo i soliti ringraziamenti ringraziamo Lorenzo Maggiani citiamo anche il suo podcast da 0 a 42 anche se onestamente temo debba cambiare il titolo del podcast visto che ha appena corso la sua prima ultra Lorenzo ci sta supportando da questo mese su Patreon quindi grazie mille ringraziamo tutte le persone che ci supportano via social passaparola semplicemente portandoci birre come diceva Marcello prima e ovviamente per questo motivo e vi promettiamo arriveranno le review abbiate pazienza ringraziamo Davide Ambrosini Claudia Negrisolo Simone Noventa Marco Ferrante Stefano Tagliaferro Alessandro Rarandon tra l'altro complimenti per la tua prima loop e Ivan Mazzarini vi vogliamo bene alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.